come ho accennato da entrambi in realtà questo sarà un primo incontro perché non sono riuscito ad avere tutti quelli che volevo avere per parlare di questo argomento tra cui due reporter in particolare che ovviamente però soprattutto in questo periodo anche se non per queste cose specifiche di questo periodo sono molto impegnati però è una mia domanda che poi ovviamente si sviluppa in una riflessione questo è un primo incontro poi ce ne sarà un altro con daniele d'anelli e poi vediamo se riusciamo a ad avervi di nuovo no perché la sera magari per voi un pochino più impegnativo praticamente loro usciranno con un libro di street che comunque è una fotografia documentale quindi si evolve anche lì questo pensiero che cominciamo oggi e poi probabilmente farò l'incontro con questi reporter singolarmente quando sarà possibile quindi però mi sono interrogato sul ruolo appunto della fotografia di reportage quindi dei reporter ma quindi in generale anche della documentaria perché vabbè il reportage ovviamente ti porta a conoscere certe situazioni certe culture diverse dalla tua però mi è capitato proprio qualche settimana fa di sentire un ragionamento da parte di persone che non sono assolutamente di quello schieramento politico e al di là dello schieramento politico infatti quindi non è quello che mi hanno fatto pensare tanto allora per quel che riguarda i reporter giornalisti da sempre bene o male si sa che non è che leggi tutto l'articolo no questa è anche una delle leggi della pubblicità no quando ti scrivono tanto è perché sanno che tu non leggerai e ci sono tutte le cose che invece dovresti leggere no solitamente però lo sanno quindi sanno che non lo leggerai quindi un bel titolone grande font 72 e poi in otto scrivi tutte oppure sugli articoli su internet c'è il titolo che proprio il clickbait no fuorviante uno va a leggere invece trova tutt'altro ma in realtà ormai il titolo è quello esatto quindi e vabbè per la scrittura è quella roba lì ma per l'immagine la fotografia non è che puoi mentire più di tanto no si può però quello magari dopo ne parliamo però non è che puoi mentire più di tanto è un reporter ovviamente ti riporta letteralmente quella realtà la fotografia documentale ti riporta oggettivamente quella realtà quindi com'è possibile poi che una frase che io senti era che se arrivano due barconi dall'africa è un'invasione ma scusa un attimo aspetta e non è uno che è di quello schermo anzi assolutamente no un amico e allora tu dici ma com'è possibile che passi un'informazione di questo tipo nell'era digitale no ora life ha chiuso no all'inizio del 2000 subito no perché ovviamente la fotografia di un tipo stampata cartaceo che aveva raccontato il mondo fino a quel momento arriva internet e non ha più motivo di esistere tra l'altro anche raccontato in modo ironico però esatto che lui è proprio l'archivista dei negativi nel sottosuolo a tutti questi negativi che deve andare a trovare l'unico negativo che non hanno è carina come storia molto bello uno dei film più interessanti sulla fotografia però appunto digitale dovrebbe permettere di tramite le immagini diciamo letteralmente bombardati molto più che negli anni 70 no lo dico spesso susan son tank diceva nel 78 nel suo saggio sulla fotografia che già allora avevano bombardati di immagini come non mai figurati se fosse ancora viva cosa direbbe adesso no eppure è ancora più veloce quindi la funzione riesci comunque è un'immagine cioè non puoi mentire adesso e non sto non mi interessa parlare di ai non è quello l'argomento non puoi mentire un'immagine presa proprio in quel momento in quella situazione in quelle condizioni com'è possibile che scrivi clickbait ok ma l'immagine non può mentire perché passa un'altra informazione come è possibile quindi il ruolo del reporter quindi è una prima un primo incontro con cui voglio ragionarmi ragionarmi con voi perché io me lo sto interrogando cioè ma quindi cosa può fare il reporter adesso valentina per esempio te giri no quindi se sia reportage e poi matrimonialista perché anche le portali giri tantissimo l'incontro con altre culture no che che è quello appunto che il reportage fondamentalmente vuole fare farti conoscere realtà che non conosci quindi non dico di farti uscire dato della tua situazione di comfort è anche quello però c'è nel tuo caso ripeto come ti puoi rapportare lo so che sbagliato pensare al pubblico finale però sentire da qualcuno che non è di uno schienamento politico di un certo tipo una fase di questo tipo e non è l'unica questo è proprio stato uno dei tanti esempi mi ha fatto domandare sul ruolo del reporter secondo me è molto più complicato primo perché c'è un'invasione di immagini quindi anche di persone comuni perché ormai con i cellulari chiunque prende immagini e rappresenta la realtà di quel momento quindi questo può essere un po' forviante non lo so è molto complicato sicuramente è qualcosa che va un pochettino anche al di là c'è anche la velocità con cui si guardano le immagini una volta erano meno quindi c'era la rivista qualcosa che tu sfogliavi adesso è un passare così veloce è vero che c'è anche il termine suo no com'è che il termine scrollare lo scroll è vero ferma veramente sull'immagine su che cosa rappresenti ma un passaggio quindi uno vede una barca sono un'invasione cioè non si approfondisce più è tutto troppo veloce forse adesso questo secondo me è un problema quindi quello che poi rimane nella testa è una propria visione di quell'immagine che non è reale è vero è vero è vero la velocità è un problema sono d'accordo infatti lo stesso Salgado diceva che una volta c'eravamo le fotografie adesso abbiamo immagini c'è una grande differenza tra fotografie e immagini eh sì ne parlavo proprio ieri ma ne parlo spesso ultimamente sì in effetti è un argomento ricorrente comunque ne parlavo su un social cioè su un gruppo su un social su facebook eh di fotografia e non è il luogo migliore perché stavano attaccando un ragazzo che aveva fatto delle foto molto emotive che erano molto documentali vedi quindi bene o male siamo lì di quel momento specifico e allora magari il soggetto in primo piano era sfocato ma era invece a fuoco lo sfondo era proprio questo uno dei casi principali però era molto emotivo cioè rendeva perfettamente quel momento no? e tutti no proprio il primo commento che era sotto era eh di amministratore dovevano biliettare certe fotografie ma che cacchio e poi vedi gli altri concentrati sulla tecnica e ovviamente producono immagini quello che dicevi te Alessio no? la maggior parte di loro producevano immagini fermi appunto al contesto accademico scolastico la tecnica ma non c'era la fotografia che invece c'era in questo in questa foto del dove il soggetto in primo piano era sfocato e dietro c'era c'era nel suo nel suo acerbo c'era quindi c'è un enorme differenza tra immagine e fotografia concordo totalmente forse ci si sofferma anche troppo sulla tecnica sul e quindi si perde l'altro lato più emotivo che è quello spontaneo che viene fuori da solo senza bisogno di metterci troppo la testa ma diciamo un po' più il cuore cioè quello che vuoi rappresentare eh sì questo è anche un problema torniamo lì al discorso che adesso ce ne sono talmente tante immagini che si cerca di avere l'immagine perfetta che poi non esiste quindi che sia perfetta inquadrata in maniera eccellente che è anche eh particolare diversa perché tu vuoi catturare catturare eh il tuo diciamo cliente finale o comunque chi eh i like guarda i like sono una fregatura i like i follower ed è incredibile come non riesci a scardinare questa cosa dicendo guarda che quelle robe funzionano solo lì al di là che più ne hai e più puoi avere un guadagno da sponsor da eh monetizzazioni varie e roba così non servono a niente non conferma che tu hai quelle capacità come fotografo oppure come content creator non lo conferma ne parlavo anche ieri sera abbiamo fatto una live e fuori live parlavo di non confermano questa capacità certo certo quindi cosa confermano una tua autostima però in realtà non esatto non ti sta chiedendo appunto quello che dicevamo adesso ma sto producendo fotografie o immagini manco te lo chiedi c'hai cento like perché c'è un classico ragazzi miei la bella ragazza fotografata imposa che una donna non assumerebbe mai ma al di là di quello capito poi ti dicono eh ma c'è anche un due artistico che non è quello comunque trovo eh e poi capito vedi la bella ragazza vedi che ne so mille like e voglia di riguardo che non è che una bella ragazza fa una bella foto non è è un ritratto e allora hai ragionato sul ritratto no quindi capito però questo è un altro discorso ancora sì poi scusami no no prego 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 no no mi ha fatto me in mente che eh a proposito di questo su tanti gruppi di fotografia poi magari i commenti sono ma con che macchina hai scattato che lente hai usato e non si non si non si non si si concentra più su quello che la fotografia vuole raccontare ma semplicemente su su come è realizzato quella foto c'è sempre questa sindrome da attrezzatura fotografica e mai da da racconto no che sarebbe molto più utile per la discussione forse eh ma è più difficile mentre ehm arrivare a quello che l'immagine trasmette o comunque eh può significare fa ragionare deve far ragionare di più visto che è un po' torniamo lì un mondo più basato sul consumismo su quello che è vero pratico ok bella la foto come l'hai fatta cosa hai usato quale obiettivo quale macchina ecco ok quello ci posso arrivare anch'io cioè nel pensiero del di chi scrive un momento del genere quindi è più tra virgolette più facile raggiungere l'altro ovviamente è la propria persona proprio io che viene fuori e quindi certo non ci sa arrivare ma io sono tornata adesso dalla Mongolia e sono stata al festival delle aquile eh molto bello tutto c'era eh questo gruppo di fotografi o amatori perché poi è anche sempre difficile capire vabbè la linea a parte che è fine ci sono degli amatori che sono più bravi di eh è vero quindi dipende dalla sensibilità che hanno ma da come vedono il mondo eh sì sì però sono arrivati con questi obiettivi veramente dei 600 delle cose si sono andati lì e quasi a spintoni eh ti assalivano si muovono come mia succede anche dall'altra parte del mondo che si muovono nuguli tutti insieme e oppure ognuno cercava il proprio punto di vista no 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 c'era l'assalto c'era quest'assalto che infatti io mi sono levata ho detto ma no aspetto un momento e sì sì veramente quasi che si prendevano gomitate per stare davanti si davano quasi gli obiettivi in testa e poi cercavano la anziché trovare appunto il momento quindi quell'attimo che ti significa qualcosa dovevano fare queste 8.000 foto raffiche continue di foto e anche di queste persone diciamo questi falconieri di farli mettere in posa allora ti puoi un po' spostare puoi tirare sull'aquila un po' di più a tirare di conto cioè sì sì ok mi ricollego a questo discorso che mi ha fatto venire in mente un aneddoto di una foto molto famosa adesso non ricordo perfettamente il nome del fotografo comunque la foto è famosissima l'avete presente sicuramente nel funerale di Roosevelt mi sembra c'è quel suonatore di tromba che piange mentre suona siete in primo piano e mi ricordo la storia dopo la foto che stavano tutti i fotografi inviati dai giornali a fare la foto al treno che passava con la barra di Roosevelt mentre lui si girò e fece la foto al musicista che piangeva e quella foto diventò molto più iconica rispetto alla foto di Roosevelt che passa quindi riportarci anche appunto andare a trovare il dettaglio nella storia poi generale invece di ammassarsi tutti insieme a fare la stessa cosa forse sì hai ragione però è anche un fatto di imitazione ormai si imita dove va l'altro cosa fotografa l'altro quindi non c'è più un'individualità ma è diciamo una foto poi hai cento foto uguali identiche che non è che l'hai fatta perché te la sento in primo perché sei lì e devi devi a tutti i costi l'imitazione anche cioè non c'è più un po' la personalità di ognuno e questo secondo me si vede anche tanto nelle immagini di oggi che sono molto stereotipate tutte molto molto simili e quindi non hanno sono poche almeno personalmente sono poche le immagini che io vedo e mi colpiscono non perché non siano belle tecnicamente torniamo lì ma perché ci sono qualcosa cioè perché si differenziano da quello che vediamo ormai scrollando appunto tutti i giorni foto che sembrano fatte sempre dallo stesso fotografo spesso a volte no ce la so quindi capisco perfettamente il discorso sì una cacofonia è interessante vedi quindi in mezzo alla cacofonia ovviamente per chi non è più abituato come probabilmente era un tempo perché c'erano proprio anche le riviste anche adesso ci sono i contenuti specifici ma è molto confuso c'erano proprio le riviste come l'hai prima l'ho accennato che ti parlavano del mondo sapevi che pediavi quella e sapevi che comunque conoscevi le cose del mondo e lì già probabilmente avevi già una propensione adesso invece è tutto confuso mi viene in mente anche per la pandemia prego prego scusami Ale scusami no a proposito che dicevi di live ma il problema adesso è che spesso il fotogiornalismo magari il quotidiano dice mandatevi le foto dei lettori su quell'evento e non c'è più il fotogiornalista che va a mandare viene mandato all'evento risparmi anche l'editore è tutto gratis semplicemente per visibilità l'amatore che stavo fatto la foto dell'evento la mando al giornale e loro la pubblicano tutto contento la mette su facebook magari sui social dove la metterà adesso mentre una volta viene mandato un fotografo del giornale a fotografare l'evento anche con un occhio diverso rispetto al lettore anche questo è cambiato vero? eh torniamo lì che bisogna come dire abbassare anche loro vogliono abbassare i costi tanto dicono l'immagine comunque arriva da uno dall'altro lui è contento che si vede il suo nome scritto sotto non sarebbe neanche niente di male credo sempre che c'è un editor quindi chi sceglie quelle immagini che le sa riconoscere quindi torniamo vedi comunque a quel discorso non sarebbe ma anzi diventerebbe un modo per anche essere dei talent scout che è una volontà che anche quella è un altro discorso ancora che ovviamente è riperito anche e soprattutto purtroppo un problema in Italia quindi ha un discorso appunto di riconoscere le capacità che soprattutto per quel che riguarda l'editoria sta venendo sempre meno in Italia cioè non ti viene riconosciuto se prendiamo per esempio delle riviste fotografiche quelle principali in Italia tu puoi anche proporre il tuo progetto mandare le tue foto però in alcuni casi manco ti viene detto che lo pubblicheranno e nei casi migliori ti stiamo facendo favore quindi non rompere i coglioni detta come va detta cioè mentre invece all'estero no è vero all'estero invece te la pagano cioè se la vogliono utilizzare la pagano per l'utilizzo per la tiratura di quella testata se andrà online e non è che uno pretende che in Italia ti paghino o meglio ed è un pensiero molto italiano in realtà è un pensiero al contrario questo cioè dovrebbe essere così anche in Italia è quello il ragionamento più concreto però c'è il fatto che non viene percepito come una collaborazione ma come farti un favore ci sono mi ricordo che per due anni pubblicai praticamente su tutte le riviste principali di fotografia solo una poi che era tra l'altro fotocult comunque interessante come rivista di fotografia che mi propose una collaborazione poi che curava alcune cose per il periodo poi cambiò casa editrice non senti più nulla almeno però ci fu tutte le altre ma vi giuro due anni dopo di che ho detto vabbè ciao ok ho capito che effettivamente posso essere adatto quel tipo di e poi vai oltre ma non c'era quella attenzione quindi probabilmente anche le riviste ma forse in realtà ovviamente bisogna riferirsi se parliamo di reportage a rivista un pochino più no panorama internazionale e lì conosco qualcuno che ci lavora è ok questa cacofonia di immagini però in effetti probabilmente crea questa confusione io mi ricordo durante la pandemia di altre poi appunto che poi vogliono imitare perché con i social voglio voglio che mi metti non mi piace no? e quindi non riesci più a capire in effetti anche chi è reporter e chi è reporter e chi invece no durante la pandemia mi ricordo che ci fu un primo progetto fotografico che fu proprio il primo di questo tipo di un ragazzo che era un appassionato di fotografia e poi forse neanche però era un infermiere e cosa faceva? in quei mesi in quelli lì cominciò a fare delle foto che erano del tutto personali quindi aveva fatto il peso proprio col cellulare ovviamente quello che aveva lì ma erano di una potenza impressionante purtroppo non mi ricordo il nome di questo ragazzo che non era neanche fotografo ma eppure era una fotografia documentale allo stesso tempo era reportage vista dal suo punto di vista dall'interno e quel primo progetto era veramente forte e potente proprio poi tutti a copiare anche i fotografi famosi che li vedevi nell'ospedale così mostra nell'ospedale ma io porca di quella cioè ma vuoi riconoscere che quello era il progetto non fare però di quel progetto ne parlano un attimo e poi basta quello fatto dall'infermiere poi invece il fotografo importante fa la mostra nell'ospedale per esempio non ce n'è stato uno ce ne sono stati tanti capito ma veramente devi sfruttare però vabbè allora io questo lo chiamo un po' sciacallaggio io distingo il reporter il paparazzo comunque personaggi pubblici ok e lo sciacallo e secondo me il terzo il peggiore mi ricordo un insegnante in un'accademia che mentre faceva vedere le sue immagini e diciamo che stava cercando di insegnare le reportage disse c'era la foto di questa anziana che piangeva fa ecco qui vedete ho avuto fortuna perché è qui e quando lei si accorta che suo figlio era morto e io dico ma porca di quella perché aveva preso l'immagine no? anche questo era un'immagine forte vedi il paradosso no? comunque raccontava una storia ma lui si sentiva di aver avuto fortuna perché aveva beccato quel momento in cui lei era scoppiata a piangere e tu dici ma che cazzo c'è ma gli sciacalli anche questo c'è poi il confine penso etico su questo tipo di fotodocumentaria è molto sottile perché da un punto di vista si riesce a sensibilizzare una parte di popolazione su un problema comune che può essere una guerra può essere appunto in questo caso la pandemia è anche una foto molto utile abbiamo visti tanti esatto se però ovviamente diventa un momento di soddisfazione di ego di dire quanto so figo perché l'ho beccata che piange allora lì insomma il confine va un po' forse un po' oltre non lo so è delicato anche il discorso forse perché anche lì c'è un confine molto sottile penso no? sì però diciamo che il fotografo lo sa cioè scattando un certo tipo di immagine sa benissimo se lo sta facendo a livello sociale a livello di qualsiasi cosa che fotografa assolutamente lo fa esclusivamente e purtroppo tantissime volte viene fatto solo a livello personale per avere quell'immagine lì perché diciamo non anche questa sensibilità delle persone oggi ancor meno assolutamente ma lo vedo scusa sì 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 prego continuamente no 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 lo vedo spesso anche nei gruppi di fotografia di street photography per esempio magari che in qualche modo documenta un po' la vita quotidiana delle città anche se non è come appunto non è proprio come il reportaggio che magari può documentare un evento un paese un qualcosa di più definito spesso vengono postate foto di senza detto di persone in difficoltà e io sempre quando gestisco insomma il gruppo che gestisco anche ripeto bisogna sempre rispettare la dignità umana se dovete fare una foto se serve per un reportaggio che lo devi sensibilizzare su un argomento va benissimo ma il contesto è sempre importante se è per un gruppo di fotografia per vedere quanto sei bravo a fare lo sfondo metto lo sfondo sfocato per mettere in primo piano qualcuno che è in difficoltà questa cosa non è accettabile secondo me insomma sì sì hai ragione io infatti mi ricordo un mio collega che è in Brasile ha fatto questa foto bellissima lui dentro quindi il fotografo dentro un McDonald's e questo bambino attaccato a questa vetrata che lo guardava guardava il panino guardava certo ti metteva una tristezza infatti io avevo detto ma almeno gli hai comprato un panino e sei andato a portare stavo pensando la stessa cosa esatto esatto vedi come viene naturale e questa è infatti probabilmente la differenza si la scatti perché appunto stai vivendo anche tu in quel momento quindi l'empatia e poi gli compri il panino compri anche più di uno è vero stavo a McDonald's quanto ti costruisci a mangiare il mio panino non ce l'avrei neanche fatta esatto è anche vero scattarla senza una finalità che può aiutare in qualche modo piccolo grande che sia io personalmente non riesco ma non è con le persone ma neanche con gli animali cioè diciamo che se parliamo appunto di reportage cioè lo scopo principale è appunto quello che in teoria che tu immagini che scattando quell'immagine potrei cambiare quel piccolo mondo a cui arriverà perché è una bolla alla fine soprattutto adesso che è assurdo perché in teoria con internet puoi arrivare ovunque ma almeno prima c'erano appunto le viste specializzate e chi la comprava quella bolla si comprava la rivista e prestava attenzione come dicevamo però un reporter è veramente convinto che può cambiare il mondo a cui può arrivare con le proprie immagini quindi come hai detto tu fotografi ragazzino che ovviamente è lì attaccato a McDonald's e gli compri il panino e anche io ne ho viste addirittura la cosa più assurda che mi è rimasta scolpita nel cervello sta cosa erano due fotografi in particolare benestanti in realtà questo purtroppo c'entra e mi piace o meno che avevano deciso per conto loro non insieme però nello stesso periodo di andare in India per fotografare la povertà questo è proprio così come è che cazzo c'è in che senso ah è l'India voglio fotografare la povertà anche tu anche tu anche io anche io a Natale sotto Natale è una cosa che già mi faceva in India cioè sotto Natale in India fotografare la povertà io così che ci stavo io mi dico punti interrogativi in testa che mi dico in che senso perché in India c'è la povertà no McHerry sai si abituavano che poi in un ambiente che non conosce certe cose voglio proprio parlarti di questo e purtroppo è un classico anche quello copiare altri non c'è niente di male ma devi capire perché ha fatto quella foto non è che McHerry oppure Salgado stanno anni e anni in un posto così per portarsi a casa le belle foto però non è così scontato loro spiegavano che andavano in India per fotografare la povertà poi addirittura uno proprio poi le faceva patinate cioè fotografare la povertà poi le lavorava talmente tanto che non ci senti di male però che poi erano date a vogue da quel momento in poi erano date a vogue quindi il poveraccio è tutto bello ah ok capito? cioè ok in ogni posto in cui andava era così però vabbè però purtroppo subiscono il fascino e mi è capitato anche con altri fotografi di altri ambiti subiscono il fascino di qualcosa che non conoscono quindi in quel caso era la povertà no? e per loro è qualcosa di magari che adesso a noi ci immaginiamo di avere la villa no? in qualche posto o ma neanche proprio un posto che ci piace a noi se avessimo i soldi faremo quello loro quello l'hanno già fatto sono invece affascinati dell'opposto ed è interessante e quindi fotografare la povertà ma non solo uno di questi mi domandò poi una volta tornati da questo percorso c'è ancora il messaggio da qualche parte perché me lo scrissero ma ci sono dei tutorial o dei programmi che mi permettono di enfatizzare la povertà dei soggetti nelle mie foto? ma che cazzo? già ma che cazzo? cioè che sei vissuto quel momento? cioè come ti sentivi? cioè sviluppa in base a come ti sentivi quel momento? a ciò che hai portato? no ci sono dei tutorial che enfatizzano? per enfatizzare la povertà la povertà ti giuro che la domanda era esattamente questa ti stanno sanguinando le orecchie e quindi è bello che ovviamente erano belle foto comunque venivano anche prese dalla diversa realtà ma anche National Geographic allora ti domandi vedi ma che cacchio e poi lì diventa ancora più complicato se devi trasmettere qualcosa a qualcuno che le guarda perché è un messaggio che probabilmente indirettamente diventa anche non dico confuso però guardi uno di questi poveri indiani e vedi un fotomodello perché talmente ne ha lavorato e dici vabbè forse non stanno così male allora vedi forse torniamo anche a quella frase che ho detto no questi arrivano invadono sai il classico è fuoriato capito? sì e quindi cominci a immaginare veramente un mondo non reale perché chi l'ha scattato però è strano è assurdo capito? cioè chi scatta dovrebbe un attimo avere questo tipo di soprattutto per questi generi poi vabbè i paparazzi un'altra cosa quello un altro genere ancora personaggi pubblici non sto neanche ad entrare nell'ambito però nel reportage appunto come dicevamo ci sono invece anche i sciacalli capito? e gente che gli piace la povertà e quindi il fotografo la povertà e poi invece c'è quanti copiano McCary poi c'è Kevin Carter mi ricordo il fotografo che raccontò insieme eh sì al Bang Bang Club dei Boom Boom Club sì dell'Apartheid del Bang Bang Club sì 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 dell'Apartheid in Sud Africa e poi mi ricordo che c'è una foto a un bambino un avvoltoio vicino e lui vinse il Pulitzer poi per quella foto anche insomma quella del reportage e poi si tolse la vita perché non riuscì a reggere all'impatto la shitstorm si direbbe adesso insomma e non c'era ancora internet vedi lì proprio gli fu chiesto che non era il suo il compito lui era lì lui era un fotografo di guerra no? sì 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 come gli altri quattro ragazzi di cui solo due sono poi vissuti di cui uno è rimasto un arto sano no? eh non mi ricordo come si chiama no ce l'ho il libro sai sai che c'era il loro libro quello che scrissero di quel periodo anche un film con lo sfodissimo ma carino sull'argomento sì è vero che parla proprio di loro quattro e lui mi fu cominciato a chiedere proprio dall'opinione pubblica no? per fare anche lì audience o quello che è ma quel bambino hai fatto qualcosa per aiutarlo lo hai salvato lo hai lasciato lì solo che vedi non è il discorso che abbiamo fatto del McDonald's lui era lì con gli eserciti dell'ONU e toccava loro fare qualcosa eppure nonostante quello e lui comunque era lì appunto per documentare per conoscere che c'era quella situazione in Sudafrica e tutto il resto e in effetti diciamoci a distanza di tempo il lavoro che hanno fatto anche questi fotografi è servito poi a cambiare la situazione assolutamente grazie a loro è servito il mondo occidentale è venuto a conoscenza di quello che stava succedendo è stato che poi è quello che spesso insomma a cui serve proprio una volta insomma spesso la fotografia il fotogiornalismo è uno dei tanti tasselli che poi hanno permesso a Mandela di cambiare quel mondo che purtroppo adesso sta un po' tornando indietro nel tempo non so se sapete anche del BRICS i BRICS quella S è Sudafrica non so sapete cosa sono i BRICS è proprio una roba nuova nuova è un'associazione di stati che vogliono demolire l'Occidente e che non è un acronimo perché mettendoli insieme veniva fuori BRICS mattoni mattoni è Brasile Russia India Cina e si è giunto anche Sudafrica più alto e piccoli era inquietante viene a mancare vedi eh sì però tornando comunque a McCarty McCarty si chiama sì che mi confondo sempre è Kevin Carter Kevin Carter scusami Kevin Carter e l'opinione pubblica appunto lo accusò ma come era lasciato io non ha fatto niente ma a differenza di chi magari appunto fotografa senza tetto cose così per avere l'immagine stereotipo del reportage perché penso che quello ovviamente rientri in un canone fotografico lui si sentì veramente in colpa cioè chi fa chi fa quel tipo di fotografie in quel caso di guerra o anche giornalisti eh non è che vanno là per divertimento cioè penso anche se prendiamo di giornalisti è una Cecilia Sala che è giovanissima prende e va la Mannocchi un altro giornalista che coraggio oppure anche Ilaria Alpi cioè ne abbiamo in Italia ne abbiamo veramente ad esempio tra l'altro tutte donne vabbè ci sono anche i maschi non è quello però mi sono venuti in mente loro forse perché come carattere mi vengono in mente veramente le donne che io per esempio la Cecilia Sala mi preoccupo immediatamente ragazza giovane bravissima va lei in questa zona di guerra già ti preoccupi dici ma che cacchio no ma anche io quando vedo il reportage di Francesca Mannocchi resto mi sento proprio spaventato per lei a volte bravissime bravissime perché per esempio vedi altra questione che riguarda l'opinione pubblica anche adesso di nuovo con la questione israelo-palestinese che è una situazione in cui è impossibile prendere una parte più ti informi e loro fanno un'informazione corretta attuale e ti informano anche su perché sei arrivati a quella situazione anche lì fa fatica comunque anche quando ti viene raccontato anche quando comunque sono immagini a passare in una situazione che non può essere è impossibile giudicarla è impossibile prendere una parte di volta in volta no? quella è una situazione veramente complicatissima quindi effettivamente si bisogna contestualizzare sempre però si bisogna contestualizzare in base al tempo che stai vivendo al tempo presente e alla situazione addirittura purtroppo in quel caso giorno per giorno purtroppo è ok però per altre situazioni magari fra virgolette un pochino più semplici dove questi giornalisti riescono a fare la differenza ti raccontano esattamente cosa accade in situazioni in cui c'è un aggressore un aggredito è palese e cose così no neanche lì si riesce né tramite le immagini né tramite le parole e la capacità di questi report anche lì non arriva il messaggio che dovrebbe arrivare è ok che uno interpreta ma sono realmente informazioni reali ma non arriva non so se è sempre stato così oppure se effettivamente un periodo del discorso dell'interno della cacofonia e quindi non si riesce l'infodemia no in effetti forse è dovuto anche all'infodemia per colpa dei soci e tutto il resto ma fa più fatica a passare ciò che un report che ha sentito in quel momento che aveva quella empatia sta cercando di documentare perché è tra proprio con il proprio punto di vista però in un certo momento ti rendi conto che quella è una situazione oggettiva vista col proprio punto di vista ma è quella la situazione non è un'altra non è un'invasione non è capito che ne so il nazismo non è che ne so queste robe qua cioè non è quella che invece ci si era immaginati o che ti è stata raccontata perché c'è tanto anche di politica che confonde le idee no e quindi magari vedi le immagini ma anche l'informazione che spesso è asservita magari a un certo a un certo presa di posizione che arriva dall'alto e quindi devono anche dare un'informazione che non è esattamente quella che che dovrebbero magari raccontare su certi episodi no quindi è anche fuori di anche è complicato per un reporter un giornalista diventa complicato eh sì diventa complicato perché come fai quindi poi a raccontare prego prego no forse c'è tanta informazione ma poca conoscenza quindi ci si ferma quell'immagine ci si ferma quell'articoletto non si approfondisce più quello che poi veramente è perché uno magari dovrebbe partire da un'immagine che ti colpisce e quindi dici caspita guarda cosa sta succedendo e quindi andare un po' approfondire quell'argomento quella specifica situazione invece no ah sì è lì è così punto come si parte dalla foto che dicevi del barcone che uno dice c'è un'invasione perché tutto rimane e torniamo alla velocità quindi mi fermo lì mi faccio un'idea buona e quella non vado a leggere a capire cosa è successo da quando questa situazione va avanti e quindi perché si è arrivati a un certo punto il contesto è tutto secondo me è sempre tutto cioè se non si contestualizza ogni cosa si va a perdere proprio poi il valore dell'efficacia anche dell'immagine stessa magari puoi vedere una bella immagine ma senza il contesto può sembrarti bello qualunque cosa anche una cosa terribile in realtà no perché se non sai cosa sta raccontando quell'immagine per quanto possa essere bella magari ti arriva un'informazione totalmente differente da quella che il contesto invece ti dovrebbe suggerire infatti non manca l'approfondimento quindi la gente è tutta leggera cioè tutto e poi si rifà prende l'immagine prende la frase magari del telegiornale che dice una cosa lo so ma e dice ah lì è così loro sono cattivi gli altri sono bravi esatto questa divisione che non è mai netta in questi anni non è mai netta adesso facciamo un esempio attuale adesso è scoppiata di nuovo quest'altro casino più va indietro più capisci che è impossibile prendere una posizione no Israele e Palestina che piaccia o meno più va indietro poi si va ancora più indietro cioè è complicatissimo anche lì però in Italia probabilmente io ho notato anche che non solo quello cattivo quello è buono ancora peggio secondo me sarà che l'Italia è abituata a uno sport ben specifico quindi avete già capito cosa voglio dire tipo da stadio in un certo momento io sono tifoso parlo da tifoso però è ovvio che vanno sempre separate le cose cioè si può fare il tifo di uno sport ma insomma per quanto riguarda vite umane bisogna tifare sempre adesso voglio fare la frase retorica della situazione voglio dire però insomma bisognerebbe sempre tifare appunto per l'umanità e questa è una cosa che spugge un po' dai radar insomma alla fine poi io io ho delle idee ho preso una posizione l'ho presa non andiamo fuori luogo fuori tema però è ovvio comunque fa parte in realtà proprio del tema e questa è una cosa interessante esatto poi ovviamente non è si può tifare per chi insomma per la morte o per qualcosa che esatto cioè nessuno vuole la guerra anche questa cosa qua no ah guerra fondaia no nessuno la vuole ragazzi miei nessuno la vuole se parliamo della gente comune ma c'è noi ma anche io conosco degli israeliani no ci abbiamo lavorato e beh anche tu no li abbiamo conosciuti ci siamo conosciuti proprio perché io e te adesso facciamo parte di questa galleria di Tel Aviv ma non è che poi automaticamente prendi una o l'altra parte la gente la popolazione non c'entra nulla con queste dinamiche e quindi ci rimettono tutti e nessuno la vuole questa guerra nessuno degli schieramenti cioè bisognerebbe partire da questo presupposto per poi farsi anche quindi l'idea generale di qualsiasi cosa che accade nel mondo poi ne stiamo anche dentro un po' troppo tutte insieme però vabbè questo è un altro c'è l'immagine da una parte e dall'altra è la stessa identica cioè di morte quindi che sia l'immagine che dovrebbe arrivare comunque che è la realtà è quella quindi una settimana prima puoi fotografare il bambino morto la donna israeliana e la settimana dopo quello palestinese cioè è la stessa immagine cioè non è differente la stessa problematica la stessa immagine che poi tra l'altro quello che diceva Alessio anche te Valentino girando tutti i posti che hai girato e che girerai è bello l'incontro e la conoscenza di una cultura diversa dalla tua è fondamentale se parliamo appunto non si conosce non trasmetti niente infatti ritorno al discorso che dicevi tu dell'infermiere che lui ha fatto ha fotografato qualcosa che parte della sua vita qualcosa che conosceva cioè che sapeva e quindi quotidiano in quel periodo se va uno che non è mai entrato in un ospedale se no magari a visitare la nonna sì certo quello che succede ma non riuscirà mai a dare manca l'empadia il contatto umano diventa fredda poi devi viverle devi stare dentro beh pensate al progetto Exodus di Salgado che poi è stato quello che a un certo momento alla fine di quel progetto gli ha fatto poggiare la macchina fotografica piangere in un angolo e dire l'umanità deve estinguersi però lui li seguiva cioè duravano anni e anni ha seguito tutti questi esodi che anche lì avendo poi la consapevolezza che è un esodo è storico questa cosa non lo puoi fermare in nessun modo se non purtroppo col genocidio ed è per quello che lui ha abbandonato la macchina ragazzi cioè questa cosa non voglio più farla e poi invece è passato a Genesi vabbè questo è un ulteriore discorso però è molto interessante in realtà come riflessione perché lui è uno di quelli che a un certo momento e con la potenza che aveva viveva la situazione e con Exodus proprio gli seguiva passo passo tutti questi esodi di quel periodo enormi ce n'era uno dietro l'altro in Africa e lui a un certo momento capito ha mollato piangendo però cacchio dicendo l'umanità deve estinguersi cioè vedi l'empatia fin dove arriva vabbè Salgado tra le cinque persone a cui io se avessi il potere darei l'immortalità perché è uno che ha ricostruito un intero ecosistema dal nulla ha risposto con la vita con Genesi no? ha fatto cose da brivido è un esempio sempre sai molti manco sanno che lui era un reporter a quel livello vedi Genesi uno degli ultimi progetti che ha fatto non sanno che vedi il gabbiano che sembra che abbracci l'altro gabbiano no? o Albatross e vedi le parti belle del mondo e non va a immaginare che quella è stata una sua reazione reggito con la vita anche creando quel progetto di riforestazione a una morte su cui non aveva alcun potere non ce l'aveva e come reporter sperava di averlo avuto fino a quel momento guarda che è una consapevolezza vedi come passiamo da quelli che vanno a fotografare la povertà a chi invece è consapevole a un certo momento perché veramente alla faccia dell'autocritica non sto riuscendo a cambiare il mondo cioè questi questi li uccideranno tutti ma porca era guarda che ed ha risposto comunque con la vita ma perché mi spugge mi viene i meccati perdonami Kevin Carter Kevin Carter per il semplice sentirsi in colpa per una domanda che gli fu posta dall'opinione pubblica ma su cui in realtà lui non aveva alcun potere quindi una situazione non aveva alcun potere c'era comunque le elezioni unite che potevano salvare quella ma se non sbaglio poi anche logisticamente forse c'era anche un crepaccio un burrone che comunque lui non poteva proprio intervenire perché era dall'altra parte di qualcosa non era il loro compito cioè proprio qualcosa che lui poteva mentre ci sono alcuni fotografi che fanno anche l'addestramento dei fucilieri vanno come sarei visto in Full Metal Jacket quello era un fotografo no? e lo fanno altri la maggior parte non hanno cioè non hanno quello addestramento non gli serve diciamo quindi non erano parte dell'esercito erano fotografi di combattimenti quindi non era il loro compito sparare o nonostante due sono morti un morto nell'esempio di Full Metal Jack Jacket c'era vabbè solo Joker anche Rafterman che era il fotografo lo accompagnava lì era la fotografia di propaganda perché loro lavoravano per la rivista Stars and Stripes non mi ricordo per l'esercito statunitense quindi era la propaganda dell'esercito quindi è un altro discorso proprio rispetto alla sensibilizzazione che è ancora più atroce perché diventi anche fuciliero diventi anche soldato sei lì assolutamente vabbè il verbo più di più che propaganda poi il verbo è lo stesso insomma guarda che per fotografare io sono stato fuciliere assaltatore ma la tecnica dello scatto dove miri è lo stesso dello sparare è identico e quindi se vuoi imparare a scattare bene devi guardare Leon guardi Leon quando insegna Matilde quella roba lì è vero ti giuro ti tieni respiro è vero proprio lo prendi la tecnica nello stesso modo e cambia soltanto vabbè è interessante abbiamo divagato aspetta stavamo parlando di Salgado di Salgado sì quindi è una stessa situazione dove uno però si sente talmente in colpa perché non è riuscito a evitare quella situazione di un unico bambino probabilmente erano probabilmente più e si uccide non ce la fa più a sopportare quel peso dopo che è morto anche l'altro suo amico proprio durante una di queste azioni fotografiche che non riesco a definire in un altro modo non azioni di guerra azioni fotografiche Salgado invece anche lui che è caduto in una profonda depressione e disperazione ha reagito invece con la vita sta ripiantando adesso ha fatto anche l'ultimo progetto quello sui sulle popolazioni della sua zona della Massonia che è tornato là uno dei pochi che gli permettono di entrare lì in quella zona ha risposto con la vita è molto personale però incredibilmente in entrambi i casi incredibilmente empatico e però anche lì Salgado arriva alla gente poi con i suoi progetti cioè se io faceci vedere questo progetto Exodus che costa l'idea di Dio lo sto cercando su Habibux che è un tesoro Habibux ogni tanto alcuni li ho ordinati ce n'è uno di Lenton Corbin l'ho trovato mi è arrivato l'ho trovato pochissimo che non si trova più l'ho trovato una trentina d'euro era autografato io il ginocchio ha osannato autografato veniva proprio dalla mostra dalla presentazione che aveva fatto a New York vabbè se gli faceci vedere però quelle foto di Salgado cambierebbe? potrebbe aiutare a comprendere che in realtà non è un'invasione al di là appunto di questa cosa di questa frase è solo purtroppo un esempio che ho preso perché mi ha incuriosito tanto poi ci vorrei pure fare una chiacchiera con l'amico tuo per capirci no ma al di là del mio amico perché è un pensiero proprio veramente anche di persone che non sono di uno schienamento politico passano in formazione che non è reale però vedi parliamo di Salgado parliamo di McCarry quindi chi ha vissuto in diversi posti Valentina te li giri ancora adesso no? e quindi probabilmente si ha una consapevolezza non è un'invasione non scelgono di invadere mettiamola così ma poi più si viaggia penso più si cadono delle sovrastrutture che abbiamo che insomma riceviamo in testa vedendo appunto la tv i social cioè più si entra in contatto con la gente più c'è contatto umano più sembra anche la frase fatta questa più si apre veramente la testa il cervello si entra in contatto e si capiscono anche più cose perché comunque poi l'informazione quando l'hai tu di prima mano è diversa da quella che viene filtrata da un articolo da un servizio in televisione la vivi tu e quando tu parli con una persona cadono tante cose che non sapevi comunque ma non solo quando vai in un determinato luogo che è totalmente distante della tua cultura ti devi anche preparare prima e non parlo solo dei vaccini parlo proprio culturalmente devi evitare certe certe atteggiamenti certe parole certe frasi guarda adesso sto leggendo te l'ho detto anche ieri sto leggendo questo libro di Steve McHenry con la storia dei prodotti dei suoi reportage quindi racconta come si è preparato come ha scattato alcune immagini c'è una storia in India che stava fotografando una festività religiosa comunque con degli uomini che andavano in acqua a portare delle statue divine e quando si scattava delle foto a delle persone l'hanno preso e hanno messo la testa dei McHenry sott'acqua perché non accettavano che lui prendesse delle immagini di quell'evento e poi insomma la situazione è andata finita bene perché c'era una sua guida che l'ha salvato perché era parte del posto quindi è riuscito però insomma racconta delle cose che sono veramente molto toccanti eppure quando va in un luogo lui si prende due o tre mesi si sta là e le prime due settimane non scatta quasi niente semplicemente si abitua ai ritmi del luogo cerca di entrare nella cultura e questo è molto interessante poi in quest'epoca in cui tutto è veloce tu vai là magari devi fare un servizio stai una settimana altri quattro giorni e devi fare tutto in poco tempo quando in realtà serve tempo per entrare in una cultura scherze per comprendere salgado minimo otto anni salgado qualsiasi progetto abbia fatto otto anni assolutamente una cosa importante è una società che ha perso un po' la pazienza adesso non voglio fare il boomer della situazione no 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 guarda che per quello che stiamo parlando è essenziale cioè devi proprio vivere vivere che oggi adesso non so viene a fare esempio degli adolescenti perché ricordo quando ero adolescente io se volevo ascoltare una canzone che mi piaceva dovevo aspettare che passassi in radio e stavi là girare cercarla oppure se vuoi vedere un film che hai amato con la cassetta per registrarla addirittura con la voce del dj sopra che dice no non mi rovini il finale però era il primo modo per avere poi hai fatto un app per queste cose qua due giorni per due mesi qualunque cosa era anche c'era il film che aspettavi tantissimo doveva bastare in tv dopo magari ero visto al cinema non potevi non hai insomma non hai andato a vederlo o comunque l'hai visto al cinema l'avevi amato devi aspettare due anni c'era l'attesa però e ho capito cosa era e la pazienza era importante oppure so sai andavi a un appuntamento in anticipo oppure qualcuno è in ritardo non è stai al cellulare e passavi il tempo stavi là così e imparavi il valore della battaglia aspettavi la telefonata a casa sarebbe importante quando uscivi a cena veramente qui sembra che parliamo ormai siamo anziani ragazzi la pensione però è vero nel senso anche io è uno dei primi ragionamenti che feci sul cellulare quindi neanche lo smartphone io ragionavo che ma mi dava fastidio addirittura poi mi ricordo la prima volta che vedi un tipo che disposa a un cellulare in un ristorante perché mentre eravamo lì senti pronto chi è? che era stranissimo sentirlo fuori dal contesto che parlavano al microfono sembrava che parlassero da sole però proprio la prima volta che ero con un mio amico un mio caro amico con cui sono cresciuto e ci guardavamo ma cos'è ma guarda che cacchio di maleducato cioè proprio mentre mangiamo questo si fa i cavoli suoi non avrà mai successo questa roba è una roba talmente invece gli smartphone iphone 18 e io mi dicevo però uscivi con i tuoi amici eri tu e quegli amici non è che devi interferenze di tutto il mondo invece anche se lo copie i cellulari mi ricordo cacchio ho tutto il mondo in tasca però che due balle voglio stare in compagnia lo spegnevo non mi dava che fossi disponibile sempre forse noi eravamo obbligati ad apprezzare perché se non c'erano altre soluzioni adesso è andato perso perché tutto è a disposizione subito se senti una canzone apro Spotify apro YouTube se c'è un film magari su qualche piattaforma te lo scarichi quindi appunto anche il fatto dal punto di vista lavorativo non c'è più neanche il tempo di mandare un reporter a farlo stare due tre mesi per entrare nella cultura realizzare un reportage adesso ogni tutto cotto e mangiato in pochi giorni è tutto dentro più veloce e la velocità fa perdere valore anche alle cose no? cioè si diceva che la gaschina frettolosa fa i gattini ciechi è quello che diceva Valentina in effetti che ora come ora c'è talmente tanta cacofonia di immagini sempre veloce veloce lo scroll è quello e pensa che proprio nei ultimi giorni molto spesso però mi trovo appunto a parlare del fatto di molta gente che sta confondendo soprattutto se parliamo nell'ambito di YouTube che è uno delle tante realtà ma per molta gente è la realtà questa cosa mi ha sconvolto ma me l'ha proprio detta così YouTube è la realtà ok va bene e il tutto è subito è ancora più evidente su una piattaforma con YouTube perché la gente si aspetta che se non funziona adesso subito mille mille follower mille like ad ogni video allora non va con cazzo no le cose migliori richiedono il tempo per arrivare a chi devono andare e ovviamente è giusto che sia interessato che è interessato a quegli argomenti non le brevi eventuali no quando dici questa cosa adesso che è esattamente quello che hai detto tu sembra che dici una roba ma da dove vieni da Mars ma è sempre stato così cioè le cose hanno bisogno del loro tempo ma anche una cosa per esempio adesso è una cosa stupida quando fai un sito internet tutti dico sempre ottimizzalo perché deve essere caricato entro un secondo e mezzo che se una gente si stufa e lo toglie e cambia sito ma questo dura 5 secondi il caricamento della pagina ma vale la pena perché vedi un'immagine in alta definizione ma 5 secondi poi devi dedicare una cosa che ti interessa devi essere tutto e tutto i secondi perché se no se non ho ottimizzato l'algoritmo non te lo mette tra i primi non so deve essere tutto subito velocissimo e la velocità comunque appunto ti impedisci di approfondire siamo arrivati al problema quindi e l'informazione arriva incompleta perché in quell'attimo di momento in cui tu appunto scrolli scogli quell'informazione per un momento senza approfondire poi passi oltre tutto ciò che ti arriva è incompleto e diventa un problema questo secondo me cioè forse è sottovalutato anche eh sì sottovalutato è vero concordo pienamente cioè non ti viene data la possibilità di diflettere sulle cose e non che ci sia mai stata effettivamente una reale volontà di diflettere soprattutto su certe situazioni di cui abbiamo parlato c'è sempre stato questo problema però c'era oggettivamente il modo di soffermarsi di più su queste immagini su questi argomenti mentre invece adesso no è la velocità che frega e anche l'immagine nonostante comunque anche racconti quel mondo non ce la fa a distruggere questa cosa perché non ci si sofferma si scrolla al massimo metti il cuoricino l'immagine arriva ancora esatto quindi è per quello che ha più successo di un testo di qualcosa perché basta un secondo esatto 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 e quindi già il problema è a monte quindi perché viene fatta così in velocità senza approfondire senza capire chi è davanti o cosa stai fotografando infatti ho visto che al di là questo festival delle aquile quello che mi è piaciuto di più sempre con i tempi tempi permettendo è stato fare una giornata con una famiglia nomade e quindi rimanere con loro mangiare con loro proprio in maniera non ho fatto neanche tantissime foto ma esatto sempre poi però quelle foto mi dicono qualcosa cioè so che cosa sto fotografando esatto e comunque una condivisione in un tempo anche non così dilatato ma comunque entro un po' a contatto con veramente la loro cultura cosa mangiano dove dormono un pochettino più naturale che poi invece è tutto artefatto perché ho tornato durante il pesca delle aquile ho fatto una foto molto bella a questo bambino che in realtà ha un bufo però lui ha tutto questo giaccone ed è carino perché ho fatto una prima foto con un'inquadratura abbastanza frontale e dietro vedi in realtà tutti i banchetti anche le macchine molto moderne cioè comunque non ha l'impatto e la seconda foto a distanza di un secondo l'ho inquadrata dal basso ed è andato bene che c'era un cielo che era un bank perfetto a illuminarla la metti quelle due foto vicine dello stesso momento ma hanno due impatti totalmente differenti cioè è ovvio la prima la vedi dici ma sì c'è il bambino però lo vedi che è in mezzo a una fiera comunque qualcosa di esatto e invece l'altra sembra veramente un'immagine e quindi qua poi entra anche un pochettino la che cosa vuole raccontare il fotografo e come lo vuole anche la sua visione perché poi ovvio la fotografia è anche interpretazione del fotografo perché io posso includere o escludere qualcosa e quindi è la diciamo la mia visione di quel momento sono d'accordo un altro discorso la situazione può essere oggettiva ma il modo in cui tu la scatti la vedi è del tutto soggettiva da questo punto ovviamente ed è giusto è sempre il discorso sul contesto sempre bisogna esatto quindi anche quello vuol dire sì 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 stavo guardando mentre parlavi di queste foto se ce le avevi online se le avevi già caricate sul tuo sito da qualche parte io sono un po' come dirti le mie foto pubblico cioè pubblico più quelle diciamo per lavoro sul fatto di sì 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 giustamente servizi sono un po' più gelosa sono contraria invece agli altri che vogliono i like allora le tengo lì al momento giusto o se comunque devo partecipare come un buon vino comunque devono ok non mi piace invece questa cosa dei like penso che la condividiamo bene o male anche io cioè anche io sono incredibilmente refrattario soprattutto facebook facebook non è un social dove ti puoi confrontare a livello fotografico è impossibile secondo me ora come ora è impossibile non è mai servito a questo neanche instagram però già instagram all'inizio adesso invece però se apriamo un altro discorso io sono non so dei problemi con instagram ovviamente ce l'ho per lavoro e lo 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 aggiorno anche ma secondo me la fotografia è un'altra cosa comunque è vero sì 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 infatti a me stupano un po' poi sono lì ogni tanto dico devo mettere qualcosa perché esatto perché comunque sai cosa se non ti sei queste piattaforme si evolvono anche incredibilmente velocemente cioè già instagram non è più inizialmente no era me lo ricordo ah è un'app fai le foto col cellulare quindi letteralmente l'istantanea nonostante la qualità è interessante comunque va bene ok era il concetto della 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 polaroid no foto di cibo ovunque c'era all'inizio mi ricordo no quello un po' dopo all'inizio era proprio do coio coio c'è anche un catalogo di tanto c'è Pavarotti non so se lo sentite sottofondo aveva aveva rarpe d'ora invece adesso ma va bene anzi vabbè l'inizio era proprio l'istantanea e poi invece poi vabbè è mutato molto velocemente sempre più velocemente ancora adesso sta mutando leggevo adesso addirittura ci sono i canali come fosse una televisione o di broadcast cioè quindi sta diventando qualcosa ovviamente più riferito alla video o forse i short non lo so ci sono? mi vedete? sì sì no ti avevo perso per un attimo ah ok forse ci deve essere un qualche laggio però è stato proprio un frame di neanche un secolo ok comunque dicevo appunto che queste piattaformi si stanno evolvendo anche troppo velocemente e in direzioni sempre nuove è difficile anche farci dietro perché ovviamente si possono anche utilizzare per come cambiano secondo me Facebook non più per quello di cui stiamo parlando no però scusami torniamo al discorso che faceva poi prima Valentina tu magari metti un like a un certo tipo di foto non so immagini bianco e nero con una silhouette l'algoritmo capisce ti piace quella foto te ne propone 40 tutte uguali e quindi compare suggerito per te foto bianco e nero con la silhouette e questo alla lunga è un po' stancante perché io non voglio vedere sempre le stesse foto che ne dica l'algoritmo insomma è vero sì 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 che poi i social sono il primo ambito in cui uno potrebbe anche se si parla di deportage il primo step che potrebbe arrivare letteralmente immediatamente a chiunque ovunque però poi si perde appunto nel marasma è come buttarlo in una piazza ragazzi se succedendo questo là nel paese vicino lo butti in una piazza pieno di gente sì ok non è che però tutti colgono e poi in quella piazza passi oltre che magari fosse sempre stato così non lo so leggevi le notizie sul giornale vedevi le immagini e poi ovviamente tornavi la tua vita di tutti i giorni però sta veramente diventando paradossalmente più si diventa veloci e più sta diventando difficile comunicare una realtà non lo so mi domando perché anche in tutto il mondo sta succedendo un po' troppe cose che non so se è un'onda spero di no tipo anche tutto questo parlare della democrazia fallito tutti questi conflitti che esplodono un po' più un po' là un po' su un po' giù e ci si aspetta che ne esplodino anche altri e diciamo come abbiamo tutta questa tecnologia e sembra che siamo trovati indietro di un secolo no conflitti purtroppo ce ne sono sempre stati il problema è che questi sono reputati di serie A rispetto a quelli che ci stavano non so magari in Rwanda in Africa comunque che magari il telegiornale si interessava meno adesso che sono in paesi più o meno occidentali perché sono più vicini se ne parla di più ma poi alla fine da quando sono nato io non mi ricordo un periodo senza conflitti comunque sì beh per carità soprattutto il Medio Oriente scusate un concerto non è che l'hai di nuovo chiuso che l'altra volta no 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 l'altra volta aveva fame e aveva chiuso la porta lui no adesso magari lui non è d'accordo sul discorso non è d'accordo magari vuole dire la sua vuole dire la sua no perché noi gatti noi abbiamo visto in tante parti del mondo in ogni parte del mondo in alcuni siamo sacri in altri no va contestualizzato va contestualizzato quella è la città dei gatti c'è un documentario non mi ricordo vabbè sì sì quindi niente quindi insomma questo è l'inizio di una riflessione che mi sono fatto proprio per capire perché bene o male noi e altri che non non sono riuscito ad avere qua adesso ma che comunque con che vedremo è questo facciamo documentaria no che ci piaccia o meno non lo fai neanche apposta cioè è quello che ti va di scattare capito quando sei con te però poi arriva un messaggio ma come che ho fatto arrivare a un messaggio simile al di là dell'esempio che ho fatto è proprio in generale quando cioè è fuori cioè è quello è quello che sta mostrando la foto non è che no ma perché ci sarà un motivo per cui ma che cacchio dici cioè almeno ci fossero torniamo lì cioè delle domande perché si interrogano e vogliono capire se quell'immagine veramente racconta qualcosa di sì di reale seppia no ma sono anche commenti che finiscono lì e non fanno interrogare e c'è quello è anche il dialogo farti magari scoprire qualcosa capire per poi approfondirlo cioè dovrebbe avere uno scopo di quel genere non solo che uno si chieda che obiettivo usato per quella foto chi se ne frega cioè che obiettivo usato esatto c'è un'altra cosa che mi incuriosisce allora questo nell'ambito musicale negli anni 80-90 erano stra impegnati con una marea di problemi nel mondo dall'apartheid appunto il muro di Berlino a tutto tutto quello che accadeva nel mondo cioè non c'era un cantante che non avesse comunque cercato di dire la sua Mandela o gli due poi su ogni cosa praticamente ma non era l'unico gruppo capito anche Little Stevens cioè me ne vengono in mente tanti addirittura David Husteloff fece un concerto l'attore di Baywatch lui è anche cantante fece un concerto a Berlino nell'89 inneggiando alla libertà e si prese il merito della caduta del muro no però è interessante cioè c'era comunque anche una volontà sociale paradossalmente non c'era internet no perché si valuta sempre il momento attuale con la tecnologia più evoluta e quindi ovviamente ovviamente si sta meglio dal punto di vista per la fotografia no perché era meglio quando c'era la pellicola perché l'ha già tutto salvato te lo stampavi e quindi lo salvavi nel tempo il digitale non lo salvavi nel tempo però vabbè polvere digitale come dicevamo però parlando di questo mi viene in mente il live aid no il live aid in un periodo in cui non c'era internet il live aid cioè Bob Geldof da solo ma come cacchio e ti vedi ma come cacchio riusci a fare sto concerto enorme per sensibilizzare su una roba enorme che ancora adesso è enorme però ok poi hanno replicato questa cosa poi anche in altre parti del mondo hanno fatto qualcosa di simile però era un periodo in cui non c'era internet è possibile che adesso che c'è internet non c'è più quella energia di comprendere quel che accade e lavorare insieme perla no è curioso no no ma ormai i giovani sono pochissimi ma anche nelle cose piccole magari nelle scuole per protestare scioperi ma una volta ci si trovava e si aveva un obiettivo per raggiungere qualcosa adesso la maggior parte poi non è che uno debba è molto confuso adesso quando eravamo giovani non gliene frecce va bene tutto ma sì poi si risolve io penso tanto non posso ho sentito spesso da ragazzi giovani tanto cosa vuoi che posso cambiare io da solo cioè anche se io non faccio quella cosa tanto lo fanno tutti si inizia sempre da un'altra le più grandi rivoluzioni sono partite da una persona cioè e quindi da un'utopia sì sì sempre per quello che credi al di là di uno come la pensa su dovrebbe invece hanno questo sono un po' apatici quindi o apatici o disillusi disillusi però sottointenderebbe che comunque si sono informati in un certo modo ma disillusi forse siamo più noi che li abbiamo visti esatto e dici ormai è vero cioè io ancora ci vado a fare la mia parte sabato ero anche alla manifestazione però però è vero questa cosa che dice Valentina sì sì di pure no l'apatia sì 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 è vero ormai fa parte della quotidianità no è vera questa cosa che il tempo non riporta quello o comunque perché ti aiuta a essere no stare sul divano a non andare quindi infatti qualsiasi genere di manifestazioni i ragazzi giovani diciamo nella fascia dai 18-20 anni ai 30 sono sempre meno sono sempre persone almeno dai 40 in su nostalgici di vecchi regimi che non esistono più da una parte della lato adesso ci sono le armi di distrazione di massa e mi ci metto pure io perché un sacco di volte vado a procrastinare cose che potrei fare che invece magari vabbè dai guardo un attimo sto video perdo tempo e quindi ci sto anche io dentro questo discorso non voglio fare poi dal pulito no no c'è ah beh ma anche io siamo tutti appunto cioè mi ricordo che Andrea diceva guardate che chiunque può scrivere una vabbè detto lui magari sembra pure più facile chiunque può scrivere una canzone basta dunque la sera ti metti al pianoforte ti metti a suonare quando scrivi un testo la canzone ce l'hai e che le persone normali comuni comunque non hanno tempo perché comunque lavorano poi tornano non hanno tempo a mettere a scrivere una canzone perché sono più distratte e oppure non so mi ricordo Franco Battiato diceva io esco sempre da solo perché vabbè lui è anche un po' una sociale per quanto io lo ami diceva esco da solo perché se esco con un'altra persona mi distraggo e mi perdo le cose che avvengono intorno a me quindi non voglio distrazioni e oggi siamo molto distratti quindi è tanto più difficile interessarsi o prendersi a cuore qualcosa perché è più facile distrarsi e far passare il tempo piuttosto che impegnarsi in qualcosa e ci sto dentro naturalmente anche io ti fa comunque ragionare ti fa pensare infatti un mio amico una volta mi ha detto allora se viaggi con qualcuno è una vacanza se viaggi da solo è un viaggio esatto è un viaggio perché comunque devi sei con te stesso quindi assolutamente la condivisione sempre da solo e comunque pensi molto di più rifletti sulle cose su quello che vedi vai dove vuoi vedi quello che vuoi ti prende il tuo tempo no ma infatti i tempi avevo quando avevo più tempo appunto per questo tipo di spostamenti credo compravo un biglietto soltanto andata senza biglietto di ritorno e andavo in un posto ci stavo finché non mi finivano i soldi poi compravo il biglietto di ritorno per tornare e mi prendevo il tempo di stare in un posto anche due mesi adesso non è più possibile questa cosa mi ricordo c'era dicevo vengo anche io ti accompagno da soli si piaggia l'interrail esiste ancora? sono ricordi ok esiste esiste perché un ragazzo che conosco l'ha fatto con la fidanzata qualche mese fa poi poverino doveva far Parigi e Parigi avevano chiuso per rischi attentati un po' di cambi però si esiste ancora infatti però sono pochi una volta non dico tutti ma quasi tutti partivano per questa esperienza così on the road ma adesso già tanto in bellissimo prima dell'alba con Ethan Hawke e Giulie Delfi di che è una trilogia meravigliosa guarda stai toccando qualcosa proprio porto nel cuore totalmente lei mi hai visti Valentina? eh mi senti sì prima dell'alba prima del tramonto prima del tramonto prima del tramonto non credo tutti e tre però il bello di quei film è che allora poi meno male ogni nove anni poi c'è anche riflessione sul tempo ogni nove anni sono sempre quei due personaggi il bello è che se tu avevi quell'età cioè nove anni dopo hai ancora ovviamente la loro età e quindi stai vivendo quelle robe che stanno in noi i loro discorsi anche disillusi maturi che sono più grandi più adulti un progetto che è durato nove per tre nove per tre ventisette no esatto diciotto anni perché l'hanno fatto dopo nove anni il primo e dopo nove anni il tempo ah sì no io già immaginavo i loro figli che hanno fatto vabbè ah sì è vero diciotto anni per fare vabbè poi adesso questa parentesi cinematografica io poi ho studiato cinema quindi mi tocchi un argomento che amo particolarmente Rinkleder stesso ha girato Boyhood in dodici anni con gli stessi attori con il bambino che cresce nell'arco di dodici anni gira il film cresce veramente non è che finge con altri attori aggiornando la sceneggiatura in base anche al carattere a come è cresciuto come sono cresciuti i personaggi del film lui fa delle riflessioni sul tempo che sono meravigliose secondo me ma adesso non so vedi a proposito di prendersi il proprio tempo interessante vedi cioè lui si è preso diciotto anni per fare quella trilogia perché dovevano passare nove anni e mostrare le persone di quell'età quando crescono gli adolescenti meraviglioso che rimani con il dubbio finale che non è neanche uno spoiler si incontrano non si incontrano c'è un appuntamento alla fine ma si vedranno mai questi due proprio sempre lì in una città che non è la loro originale il 16 giugno dovevano incontrare dell'anno dopo sì sì poi ovviamente la risposta nove anni dopo la risposta e poi un'ulteriore risposta nove anni dopo per quello che succede e ogni volta è quell'età dici cacchio è veramente poi l'ultimo impressionante che forse è quello meno visto perché forse abbiamo visto solo noi di quell'età però con una situazione totalmente reale le liti totalmente reali che diciamo ma che sto guardando stanno litigando qua ai vicini di casa mia oppure vabbè sono gli stessi di sotto anni prima che erano pieni di ingenua come si dice esatto della gioventù quindi pieni di speranza cioè tutto quello che ti immaginavi a quell'età di poter diventare ed essere anche come coppia capito e poi che poi nel secondo vedi che comunque ognuno di loro ha raggiunto i propri i propri obiettivi meno male e poi c'è il terzo è molto interessante però vedi anche qui parliamo di prendersi il proprio tempo vedi come comunque le cose di valore hanno sempre bisogno di tempo di dedica ma sì ma è così puoi non so crescere una pianta un fiore ci vuole cura è tempo non è un dato oggettivo però è ovvio che se ti dedichi a una determinata ricerca a un determinato progetto ha bisogno del suo tempo per nascere deve nascere quando deve nascere non che oh ragazzi dai così devo farlo entro oggi così ho mille follow dai mi metto di scorreggio rutto e vedrai follower a maletta ma perché no perché il reportaggio è proprio questo secondo me bisogna prendersi il tempo per raccontare qualcosa per entrarci nel discorso perché se bisogna entrare per capire anche quello che vuoi raccontare che stai raccontando perché se tu fotografi qualcosa in un dato evento un dato luogo senza capire poi la storia che c'è eh torniamo lì infatti infatti la classica domanda al dirà anche del reportage mi è capitato appunto anche nei corsi che facevo dove domandavo partivo da perché volete fotografare e io sono curioso perché se per le belle immagini mi viene da fare ok quella è la porta ma tenere però va bene poi magari gli insegni però sì è una domanda che in realtà poi anche a molti che fotografano a molti che fotografano non se la sono mai chiesta perché fotografi ma perché mi piace no 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 perché in quel momento scatti ma è una bella immagine no 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 perché è speso 3.000 euro per un apparato fotografico cioè che cosa scusa prego 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 chiudo perché mi suona anche la comunque tornando al cinema quello che diceva Valentina no del discorso che molta gente lo fanno loro quindi lo faccio anch'io c'è questo atteggiamento che è un po' anche la frase che ho notato in diverse parti d'Italia in ogni regione in cui vai e dentro con la regione anche in ogni provincia c'è un diverso diverse problematiche un diverso atteggiamento però tu sentirai ovunque eh ma è così dappertutto è così in tutta Italia che è una scusa per non affrontare le problematiche del singolo luogo in cui si vive no quindi ed è proprio il vabbè ma tanto è dappertutto così fanno tutti così quindi perché mi devo preoccupare dei buchi delle strade della mafia del che ne so capito cioè no è dappertutto che non è vero che è dappertutto così però te lo racconti e quindi non fai nulla ma tornando anche al cinema ogni volta che sento anch'io dire delle persone ma cosa posso fare io sono solo una persona poi ho avuto anche un'esperienza personale all'interno dell'esercito una persona veramente può fare la differenza però torno invece a Chaplin che sosteneva appunto che tu puoi cambiare il mondo cui puoi arrivare con le tue mani e lui rifiutò il sonoro per dieci anni e poi fece uscire il grande dittatore e dice ok prima della guerra uscì e fu osteggiato da qualsiasi nazione anche dall'America il grande dittatore uscì nel 38-39 cioè la guerra non si sapeva ancora quello che aveva fatto Hitler ma lo guardi adesso sì sì e lo girò prima della guerra lui aveva questi dubbi che poteva succedere qualcosa tu lo guardi e sei convinto che l'abbia girato dopo la guerra dopo che abbiamo trovato i Lager no l'ha girato prima e proprio per questo vabbè parliamo dei più grandi geni del novecento ovunque insomma lui poteva arrivare ovunque col muto perché ovviamente andava al di là della sua immaginazione lui era convinto che poteva arrivare chiunque come con la fotografia non c'era bisogno capito se no dovevi parlare quello specifico codice quella lingua ed era un limite no quindi tutti possono cambiare il mondo che possono arrivare con le proprie mani che sia il tuo condominio che sia il tuo paesino che sia dipende con internet poi problema siamo troppo distratti per cambiare il mondo però no ma al di là tenderebbe a fare dei workshop di fotografia sulla sensibilizzazione quindi non cioè i soliti corsi sulla tecnica sul modo di fotografare invece esatto perché fotografare e cosa trasmettere sarebbe magari un'occasione soprattutto per i giovani per avvicinarsi e capire anche cosa può dare la fotografia che può avere anche un valore può aiutare può informare perché secondo me non appunto torniamo lì non ce l'hanno chiaro che esatto o comunque ricordare perché anche tra le cose io appunto sono principalmente matrimonialista e all'inizio un po' dei primi anni che facevo questo lavoro ho incontrato un fotografo invece pubblicitario no e allora sai cosa fai cosa non fai io vergognavo anche un po' soprattutto i tempi dire sono una matrimonialista perché era sempre un po' visto come il fotografo del paese ancora adesso è un reportage del matrimonio anche hai iniziato 15-16 anni fa quindi era un po' diverso adesso negli ultimi anni è diventato già più sì sì è vero se sei matrimonialista prima proprio eri visto come fotografo del paese quello che fa le fototessere e insieme fa anche i matrimoni è vero e quindi e lui mi ha detto ma guarda non sottovalutare ho detto guarda le mie foto sì magari sono esposte all'aeroporto sono messe lì al solito la bella ragazza foto pubblicitaria ma dopo un secondo uno la guarda e se la dimentica invece ho detto sai il valore della tua foto per le persone l'album che loro stampa cioè vabbè se due poi stanno insieme ovvio però è qualcosa che vi emozionerà ogni volta che guardano cioè mi ha detto ha un grosso valore il tuo lavoro ho detto fondamentalmente anche più del mio della mia immagine che è un'immagine che è solo scopo assolutamente sì è un'immagine che ci si dimentica è memoria invece ha detto per quelle persone per i figli cioè una foto qualcosa di veramente importante niente quindi questo sul valore dell'immagine delle foto è memoria ma infatti guarda anche te Alessio mi avevi accennato che poi tu stai sviluppando anche un progetto sulle memorie lo street è letteralmente memoria anche quello vedi io intanto faccio piccoli workshop per i street photography a Roma e la cosa importante che dico sempre dobbiamo raccontare con la street il tempo che stiamo vivendo perché magari lo zeitgeist esatto lo zeitgeist assolutamente sì ho sempre questo esempio che faccio quando c'è qualche allievo insomma nel 2011 era a New York per esempio avevo fatto questa foto di un cameriere appoggiato a un muro che stava in pausa sigaretta poi dal ristorante è un muro rosso molto bello mi piaceva molto il contrasto tra la divisa bianca e il muro rosso perché tutto tutto quanto rosso poverniciato bellissimo è un bellissimo muro molto fotogenico e durante la pandemia stavo rivedendo un po' l'archivio stavamo molto tempo da stare a casa stavo rivedendo insomma stavo rifacendo il sito cose così e ho pensato adesso cerco questo ristorante mi ricordavo più o meno dove era la strada quindi con street view con google sono andato a cercarmi il nome del ristorante per così volevo spedire questa foto a questo signore perché dicevo beh magari vi farà piacere riceverla perché magari insomma è un momento che insomma di dieci anni fa che gli faceva piacere avere e scopro che quel muro rosso non esisteva più il ristorante non c'era più è diventato un muro grigio con una scritta tutta sopra è diventato un muro squalidissimo tutto di nuovo dipinto di grigio sopra altre cose quindi si è perso proprio quel è rimasto molto colpito da questo il ristorante non esisteva più quindi non potevo neanche più inviare quella foto e sono rimasto colpito dal fatto che mamma mia cioè se quel momento non fossi mai passato in quella strada a fare quella foto quel muro magari non so magari esistono tante altre foto però per me non sarebbe mai più esistito cioè non sarebbe più esistito perché adesso diventa tutta altra cosa quindi è un po' anche quando vedi le immagini ovviamente poi con le dovute proporzioni dei maestri della magnum del passato vedi un mondo che c'era adesso e spesso magari oggi andiamo a cercare di imitare quelle foto del passato magari c'è il signore vestito col cappello che ricorda le immagini non so di Cattie Bressone e loro fotografavano il loro presente è il loro presente che per noi è banale però tra tra 30 anni quello che facciamo oggi diventa un documento la vita del tempo che noi stavamo vivendo allora e magari oggi fai una foto bella con qualcuno con i monopattini e dici vabbè che cosa banale stanno tutti con il monopattino in giro quella città ma tra 40 anni stanno le macchine che volano diciamo ah guardi i monopattini ci avevano a quei tempi quindi io dico sempre quando faccio queste piccole lezioni anche se cercate di raccontare quello che state vivendo non andate a cercare cose che non appartengono alla vostra realtà comunque è vero ho visto e con occhi di altri perché è sempre quello il problema è sempre importante anche anche l'originalità come posso essere originale no tutte queste domande che ti fanno beh come fai adesso l'originale tu il tuo mondo lo vedi con i tuoi occhi esatto non c'è bisogno anche lo stile quelle sono robe ma tu il tuo mondo lo vedi e lo senti con i tuoi occhi esatto poi gli puoi parlare anche dei colori che ovviamente hanno il colore del genere ma poi anche soggettivo quindi però tu le vedi e le senti a tuo modo non hai bisogno di trovare l'originialità ce l'hai già ti distrai invece cercare l'originialità esatto da quella che già hai è importante essere sempre fedeli fedeli a se stessi essere coerenti con la propria visione con la propria immagine e poi cercare di e poi viene da sé il lavoro perché comunque non stai cercando di imitare il lavoro di nessun altro stai facendo ciò che tu fai come lo faresti tu non come lo farebbe un'altra persona e anche se fai adesso è difficile essere molto ti sei mutato alessio ti sei mutato per sbaglio probabilmente hai toccato non ti sentiamo ok sta dicendo adesso è difficile e poi ti sei mutato scusate ho toccato niente niente adesso è difficile essere originali quindi non so io penso a Robert Frank il suo reportage sugli Stati Uniti d'America è andato in giro per tutti gli Stati Uniti raccontando gli Stati Uniti di quell'epoca se adesso lo fa un altro fotografo lo stesso lavoro non è che plagia o copia no no anzi è un'epoca totalmente diverso è totalmente diverso quindi come stavo dicendo racconta quello che fai come lo faresti tu perché nessun altro lo farebbe come lo fai tu anche se è un argomento magari già trattato un argomento già fatto fallo con i tuoi occhi non imitare nessuno e farei qualcosa di originale comunque esatto invece è diverso se scopri in un certo momento che fotografi anche famosi ti fanno di suonare alcune corde alcune cose che anche tu hai cioè ti accorgi che è il tuo stesso modo di fare il bianco e nero è il tuo stesso modo di fotografare le cose vedi che c'è un'espirazione quello è il tuo stesso modo di sentire allora sì ovviamente non è che l'hai copiato ma ti rendi conto che c'era lo stesso modo di percepire le cose e allora ti si apre un ulteriore mondo non sei da solo è beh ispirazione ispirazione porta poi a generare altre cose tutta una serie di dalla musica al cinema sono sempre influenze che poi si parte dal lavorare su se stessi come in ogni arte cioè lavori su di te capito devi avere questo che tremendo devi avere qualcosa da dire devi avere perché spesso uno cercherà fare foto perché ah voglio fare una foto bella appunto per i like perché puoi avere successo no successo scordatelo devi avere qualcosa da dire e raccontala perché fai uscire questa voce è quello che dico sempre è vero e poi il resto sono 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 delle relazioni conseguenti a quello che tu fai non è importante come dicevano prima i mille view i mille form ma sti cazzi cioè è importante che tu lo fai e va lo senti lo fai e poi lo dai al mondo e cosa ti devi aspettare ma poi col tempo spesso se hai quella capacità di linguaggio torna indietro molti degli artisti con cui ho parlato negli ultimi decenni cioè lo sono diventati mica perché volevano diventarlo perché in un certo momento hanno avuto la consapevolezza che avevano la capacità in qualsiasi arte di musica pittura avevano la capacità di comunicare qualcosa senza che pensassero di volerla comunicare automaticamente venivano chiamati di quadri da agenzie o case discografiche festival quello che è e adesso è il loro lavoro cioè è una conseguenza il lavoro non è lo scopo finale è chiaro cioè ed è interessante questa cosa capito e invece adesso anche poi è poi curioso perché tramite la fotografia o anche i video si pensa per esempio che sulle piattaforme social poi quello diventerà un lavoro quindi non lavori esattamente con la tua capacità artistica ma crei contenuti quindi il tuo lavoro diventa il social e non c'entra più niente in realtà con il mezzo con cui tu ci sei dentro che sia video che sia fotografia ti concentri sul social quindi capito? cioè diventa tre quarti vogliono comunque lavorare nel mondo del web cioè che lavoro quasi tutti non ho più sentito uno che dice ma guarda mi piacerebbe fare l'artigiano e non lo so creare sculture in legno ma chi? ma penso interrogare tutti eh voglio sì lavorare nei social comunque fare siti web tutto così ma scomparire la manualità è un po' torniamoli anche nella fotografia è ovvio che anche se non è tema ma l'intelligenza artificiale ti vuol portare a quasi non muoverti più da casa quindi l'immagine però non sostituisce il tipo di fotografia di cui parliamo come fa a sostituire te che te ne vai che piuttosto ma è molto pericoloso però capisci che può comunque andare un pochettino verso una strada sempre del meno contatto diretto ma per esempio ho visto qualche tempo fa prima che che morisse Berlusconi un ragazzo come prova aveva fatto con l'intelligenza artificiale aveva realizzato un reportage sul funerale futuro di Berlusconi come se fosse già successo c'era una barra dorata tu sei immaginato bisogna anche avere delle immagini in testa per generare dei lavori anche in quel caso non è una cosa che si fa in 5 minuti e aveva realizzato un reportage molto realistico e in questo modo no è di nuovo tolta scusate c'è che suspense capito mi muovo con la sedia e sposto il filo lo dico anche in quel caso quanto è facile per chi appunto scrolla e guarda le immagini velocemente creare qualcosa che poi rischia di una cosa se si vuole realizzare qualcosa con intelligenza artificiale è una cosa legittima mi sembra anche può essere anche divertente o interessante come per generare delle immagini a livello artistico che non sono fotografia sono immagini digitali esatto conosco tanti che lo fanno lo fanno anche tanto addirittura integrandoli anche con le performance è uno strumento in più per una comunicazione artistica da quel punto di vista non ci sono problemi assolutamente però ci sono problemi a livello di se puoi spacciare per reportaggio per immagini reali editoriale appunto qualcosa che non è vera lì abbiamo un problema e questo va regolamentato va allora ne parlavo proprio ieri in Europa già esiste l'AI act e siamo stati i primi a farlo e cerca di evitare proprio gli abusi in tal senso divide le AI in quattro tipologie diverse dalla più non preoccupante quelle preoccupate ma sono tutte regolamentate quindi già ci siamo mostri in tal senso però non è quello il problema perché l'AI da sola non è che frega la gente è l'utilizzo che ne fa la gente ma attenzione non noi ieri facevo proprio un aggiornamento con un giornalista perché l'ho visto anche con altri creativi perché l'AI nonostante fosse già utilizzata prima ancora che entrare nell'ambito creativo in ambito militare da una decina d'anni non è che lì ha suscitato scalpore ma come entrata nell'ambito creativo e quindi creativo editoriale oh no no ci ruberà il lavoro no l'AI non ruba il lavoro ma se un editore preferisce che gli costa meno qualcuno che sa utilizzare l'AI per creare delle immagini così come quando si passò a Photoshop e quindi costava di meno creare con Photoshop l'editore e piglierà capito è ovvio che quindi bisognerebbe dal mio punto di vista è che noi siamo fotografi bisognerebbe quindi diventare anche noi abbastanza esperti avere quella skill in più sull'AI perché poi riusciamo a riconoscere le immagini che magari possono raccontare qualcosa non tanto di una situazione reportage no reportage deve essere lì però possono raccontare qualcosa di ciò che sta raccontando il giornalista che può essere qualcos'altro ancora però ci deve essere qualcuno che già conosce le immagini per poterle selezionare perché altrimenti la situazione editoriale in Italia è che non si guarda più alla qualità ma alla quantità da circa almeno quasi una ventina d'anni è proprio è venuta sempre meno il discorso di qualità perché costa la qualità costa come dice Boris la qualità costa quindi capito a cazzo di cane è quella quella è un risulto purtroppo è così no? perretti e quella è la realtà editoriale quindi non è tanto che la I può rubarti il mestiere creativo di qualsiasi ambito illustratore purtroppo che fotografo se lavori nell'ambito editoriale ma è l'editore il classico cattivo cliente che tu sai già hai il dubbio che potrebbe preferire quel tipo di immagini anche come copertine al tuo lavoro in America hanno fatto lo sciopero anche per questo motivo e hanno questa forza ed energia in Italia no se dei creativi fanno uno sciopero di questo tipo il giorno dopo sono a casa quindi non è tanto la I ma è l'uso che l'editore potrebbe farne ed è un enorme problema in Italia ti faccio quello che è enorme è quello il problema non tanto la I da sola non è che crea chissà quale no? e fa passi da gigante a una velocità incredibile perché la prima versione di Maggiorni è uscita un anno e mezzo fa circa scusate e adesso siamo già alla quinta o sesta versione che rispetto alla prima a un livello di definizione di veridicità dell'immagine che è impressionante scusate attacco la carica al computer che si sta scaricando però ripeto no no hai ragione Alessandro però è che è come se ci si volesse sempre più spostare dalla realtà dall'essere lì dal crearla comunque un'immagine fisicamente quindi allontani sempre sempre di più è ovvio che già è venuto il voler conoscere quelle situazioni e l'altro ho visto anche immagini di di persone di vari ritratti di varie parti del mondo fatte con lei ma tu non sei mandato lì e tu lo dici magari il fotografo no ma è un esperimento un gioco sì ma perché proprio l'africana proprio la perché avrei avuto una curiosità cioè allontana la volontà un po' chiusa un po' dice ma perché ma anche semplicemente devo andare sullo scoglio al mare con una ragazza che ne so col vestito rosso e un mazzo di fiori faccio prima sono brava smanetto un po' dico sai che ultimamente l'ho visto utilizzato anche per i matrimonialisti e lo stanno vendendo come qualcosa e secondo me è una stupidata cioè immagina lo sposo che ti chiede vuole vedere come sto col vestito in questa ambientazione il vestito che avrò e te lo creano con la E e tu dici ma c'è stato un periodo sui tagli di capelli sì è vero è vero è vero in alcuni posti praticamente la tua faccia ti mettevano colore e tagli di capelli ma che poi quelli non sono però i tuoi capelli quindi non scala quella foto lì che è una foto quindi non è la stessa cosa se io mi vedo bionda con esatto vediamo sempre lì è un idealizzare così come se venissero fatti delle fotografie che le ho viste già adesso con un migliorno anche non così voluto di ritratti di varie persone di varie parti del mondo terzo mondo e cose così è comunque un idealizzare non è quella roba lì non è reale quindi se tu sei contento di averla fatta e di averla realizzata e addirittura un editore di pubblicarla poi non potranno più fingere sia chi la crea soprattutto se ci guadagnano dovrà sempre riportare miggiurne e roba così sarà quindi non potranno più fingere quindi si creerà proprio una differenza sarà illustrazione detta come va detta perché quello è così come quando viene fuori photoshop c'è ancora adesso gente che fa una confusione quando glielo dici sempre su questi gruppi ne ho visto uno non era fotografiere un'illustrazione addirittura uno gli fa notare proprio lì a Roma c'era San Pietro la Pozzangra San Pietro che si ripeteva nella Pozzangra è proprio un fulmine che cadeva sulla cupola di San Pietro è una Pozzangra del pavimento però nella Pozzangra non c'è la fulmine allora o è voluta e comunque tutto sommato è illustrazione interessante oppure ti sei sbagliato fra le due nei commenti no è vero mi sono dimenticato l'ho aggiunto dopo ma non è ma non è e che poi si incazzano no perché ora come ora perché no che siano file ok ma la fotografia ti riporta comunque alle situazioni così com'è non è che devi togliere le granelle di polvere oppure interferenze comunque banali no che ci hai messo un cacchio di fulmine può confondere vedi ancora di più perché se io credo creo un'immagine surreale quindi che non diciamo non può essere vera o sembra ma si capisce allora sì ma se io ricreo un'immagine che invece può essere ed è molto reale molto vicino alla realtà tendo a confondere di nuovo di più le persone sulla verità di questa immagine non so il giro di parole è un po' sì sì è chiaro capito però secondo me quindi io creo qualcosa di di strano di particolare che so uno che vola con i palloncini in mano e beh dico un'immagine un'illustrazione è qualcosa di carino come è stato sempre fatto appunto nell'arte nella pittura e invece non è fotografia però capito è illustrazione non è che lo puoi fare anche che era alzman che faceva i salti c'era anche da lì con una mossa surreale la mossa adesso a Roma tutto un periodo del surrealismo ha portato a creare qualcosa con il gatto che vola l'acqua lì vabbè ho visto anche la foto del backstage di quella foto è troppo divertente che lanciano il gatto ma infatti lì è divertente ma falle così è più divertente falle così allora lì tu crei qualcosa di artistico di particolare il problema è che invece adesso un po' chi ho d'immagini che ho visto si vuole ricreare una cosa reale senza andare fisicamente come abbiamo detto esatto e quindi qui attenzione perché già abbiamo detto la gente è confusa non capisce dalle immagini se è vero o falso la confondo ancora di più tu dici sì lo mettono sotto torniamo lì la gente che si fa a vedere no esatto e quindi andiamo a vedere noi per curiosità ma in effetti la gente di creare un'immagine di uno che si sta buttando giù da un ponte e quando uno la guarda e scorre dice oddio guarda questo si è buttato giù dal ponte esatto magari è successo anche questo guarda il discorso è identico per esempio anche su Instagram e su YouTube i content creator come si dice o l'influencer devono mettere gli ex youtuber esatto devono mettere il tag ads come advertising quando stanno pubblicizzando qualcosa per cui sono stati pagati per dire ah questo ristorante è buonissimo però chi è che va a leggere il tag e quindi legge questo ristorante è troppo buono andate a mangiare qua e la gente ci va perché pensa in buona fede che sia un consiglio e invece in realtà è una pubblicità e lo stesso discorso è questo cioè se scriviamo i giorni nel tag ma chi si trova a leggere pensi sia vera quell'immagine e questo è pericoloso quindi il rischio è giusto come hai detto tu che è nell'utilizzo però è ovvio che ricollegandoci di nuovo anche alla velocità verranno viste talmente nell'immediato che saranno viste come immagini fatte create realmente queste per buone sì sì quindi purtroppo questo verrà anche utilizzato come è già successo addirittura anche prima che la ipos è così intelligente per monopolizzare anche la comunicazione in una certa direzione a seconda dello stato che utilizza quel tipo di comunicazione quindi viene proprio utilizzata come infodemia questo è ancora più pericoloso quindi è proprio l'estremo opposto di quello di cui vi han parlato vedi vabbè poi c'è l'opposto delle reportage che è ancora più pericolosa perché tu puoi far dire qualunque cosa a chiunque senza che l'abbia veramente detta è vero questo è l'opposto delle reportage poi a poco gliene frega di mettere cioè in Europa abbiamo questa legge e in teoria sono obbligati però poi a poco gliene frega di dire questo l'abbia fatto con la IE quindi diventa ancora più complicato e vedi siamo arrivati all'opposto delle reportage che effettivamente può essere purtroppo dettato proprio dall'IE è un ragionamento che ancora non avevo fatto nell'ultimo anno il tema del cascella era intelligenza artificiale ma questo giro in effetti non l'abbiamo fatto sulla pericolosità in tal senso perché poi il discorso nel reportage perché siamo concentrati vedi in effetti con il cascella ci siamo concentrati di più sull'arte e l'arte non ha alcun problema con le IE ne può diventare un mezzo ma il reportage sì che ce l'ha porca Eva vedi non ci avevo mai riflettuto perché possono mentire spudoratamente al di fuori dell'Europa per carità perché parliamo adesso vi mando il link di questa cosa del reportage finto del funerario di Berlusconi che è veramente credibile c'era anche un altro su Assange se non sbaglio fatto sempre dallo stesso dallo stesso autore ha fatto questi reportage finti che sono che mostrano come è la differenza anche tra le varie versioni del Dimit Journey anche di Trump c'era ci sono stati diversi esperimenti mi ricorda qualcosa di Trump esatto eh sì mi è voluto in mente adesso e sono veramente straviglianti per quanto sono credibili alcuni quindi è è un discorso comunque da approfondire diciamo che per ora sono stati sono stati scoperti su praticamente subito quindi questo è stato fatto apposta proprio per far vedere la pericolosità del mezzo c'era proprio stato un esperimento anche perché giustamente lo faccio quando lui è ancora vivo esatto 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 quindi era evidente che fosse in tempo breve sì sì anzi profetico pure che ne so cioè ha veramente ha veramente delle sfaccettature che possono essere molto secondo me molto pericolose nella fotografia cioè anche l'informazione in generale è stato il modo perché un'immagine anche realmente posso ricrearla ma anche un'immagine di morto quello che vuoi però ci sono già dei passaggi quindi devo già andare fisicamente in quel posto ricrearla in un modo posso essere visto invece da casa mia ma anche solo sul fatto del passare del tempo come dici tu di se io pubblico dico oggi questa immagine il muro rosso e dico che è stata fatta oggi tu la fai con l'intelligenza artificiale invece non è più la realtà esatto esatto è una realtà passata che oggi non c'è più esatto esatto però questo interessa a livello artistico può essere interessante però questo a livello però di reportage se tu la vuoi fare puoi fare un reportage sull'antica Roma a fare non so street photography sull'antica Roma puoi ricreare il modo di vedere la Roma esatto può essere divertente però ovviamente poi la realtà parliamo di un'altra cosa comunque e poi quella foto lì vista torniamo lì tra 50-100 anni darà una realtà sbagliata di quello che è la realtà di oggi quindi però tra 50-100 anni ovviamente non dubito che ovviamente si sapranno già che quella non è una fotografia cioè non si è così capito lo sa torni lì ma non lo so oddio chi lo sa in effetti sì perché c'è stato non so se l'avete vista che lì ho detto ma veramente la gente cioè io ho veramente lo prescordato troppe cose ho pensato girava qualche mese fa una fotografia di Leonardo praticamente tipo abbracciato alla Gioconda una fotografia l'ho vista una fotografia una fotografia il selfie dell'ultima cena anche la fotografia del selfie dell'ultima cena ma molta gente pensava che fosse una fotografia vera allora allora tu dici vabbè il problema è la gente in questo caso no al di là però vabbè ok la gente non sa quando è notata la fotografia ok diciamoglielo diciamoglielo quindi nel 1800 io dici proprio generico così capito però che dici Leonardo però aspetta però magari il problema è opposto Leonardo magari penso che sia vissuto nel 1800 però alla faccia del non allora allora poi si sembra anche arroganti capito però Leonardo rinascimento 1500 1400 cioè bene o male capito uno potrebbe anche invece no si pensava fosse una fotografia reale e questa cosa mi sconcerta in effetti quindi è vero speriamo che per cento anni si accorgano che certe immagini non io se io ci avevo mandato qualche tempo fa per divertimento io abbiamo fatto delle ho fatto qualche esperimento con la i e ho fatto le immagini di un alieno fotografato da Salgado nella foresta amazzonica o da sim mccary nell'oli festival in india che erano molto divertenti e credibili ma è ovviamente un alieno quindi già la base non poteva creare confusione che li prenderebbero Salgado fotografato se mi ci metto a divertirmi a mandarlo qualcuno ci casca qualcuno però vabbè sì sì è vero questo è un utilizzo molto pericoloso in effetti questa interpretazione della realtà anche perché la gente vuole credere a ciò a cui vuole credere non a ciò che è ah sì quello è un grande problema eh sì quindi perché ci infilo anche noi nel senso che ognuno ma poi è veramente faticoso scardinare le adesso li chiamano i bias comunque i preconcetti perché ci sono anche termini in italiano che magari uno ha accumulato nel tempo anche quelli di cui non si accorge però già domandarti capito perché in alcune culture c'è questa differenza tra per esempio quando mi trovo a dire che lo stato islamico adesso non voglio parlare di politica è proprio un esempio di come parlavamo prima della devi conoscere devi sapere le varie culture cose così anche se comunque non vai là ma soprattutto se vai là lo stato islamico perché l'islam non è la religione religione e politica sono un'unica cosa per loro quindi la figura religiosa è la massima figura anche politica è la massima figura religiosa è un tutt'uno non è diviso come da noi è un po' come dire che Mattarella fosse anche il Papa che per noi non riesce proprio con Cicchino perché sei cresciuto no è vero non riesce con Cicchino lo sono immaginato per un momento eh sì esatto perché noi non vediamo da quella cultura vedi come è un'altra cultura per questo devi fare quello sforzo di capire ed è faticoso per noi capire e spesso arrivo delle informazioni molto forvianti quando se no me sono tra le persone più accoglienti che abbiamo incontrato in vita mia esatto infatti è quello poi fa parte ovviamente sono i fondamentalismi che hanno creato un certo tipo di però vabbè non voglio entrare nel discorso però anche questo semplice fatto dove non c'è una distinzione tra come da noi stato della chiesa e stato non c'è una laicità quindi libertà di culto a Roma parliamone perché insomma il papa non è il presidente della repubblica mentre invece nello stato islamico che vorrebbero tanto creare cioè la massima figura religiosa è anche la stessa politica sono tutt'uno sono l'unica figura ma devi fare veramente uno sforzo enorme e allora capisci come anche a livello sociale le figure religiose abbiano un ruolo diverso da quello che noi attribuiamo alle nostre figure religiose non è così uguale dappertutto un prete non è un imam cioè capito cosa voglio dire è l'imam ha qualcosa in più è anche assessore che ne so adesso mi sono veramente lo semplicizzo però capito sono figure che non sono solo spirituali ma sono anche vere e proprie guide sociali e per noi è particolosissimo concepirlo quindi però ti viene viene venduto perché non ti viene neanche comunicato non ti viene fatta questa informazione come se fosse soltanto un estremismo religioso no cioè è anche politica quindi diventa anche ideologia ma devi spiegare il perché sono fuse e per noi è uno sforzo mentale ma se cominci comunque ad accennarlo invece di dire soltanto gli estremismi quindi l'islam è questo come dici te si fa confusione anche per questo no sull'islam che poi l'islam non dice anche lui nessuno vuole la guerra ripeto ma che cacchio è complicato capito riuscire poi a capire le situazioni del mondo anche per virgolette quelle di cui sentiamo parlare più spesso da quanto sentiamo parlare dell'islam no Afghanistan Iraq da quanti decenni dal secolo scorso si combatterà però a quanti ti diranno che religione e politica sono un tutt'uno nell'islam cioè quanti veramente si sono informati su questo come fai si sono chiesti queste cose qua però non è che neanche ti venga detto automaticamente te lo fanno leggere già come hai detto te come se lo dovessi leggere con la tua visione italiana in questo caso quindi pari dell'imame è un prete pari della guida spirituale che c'è adesso non mi ricordo ed è il loro capito papa e così via no non c'è neanche quello sforzo appunto nei canali di comunicazione di far capire una cultura di cui si è parlato così tanto eppure questa roba e questa è una delle realtà di cui si è parlato di più negli ultimi decenni nel secolo scorso per quel che ci riguarda eppure questa cosa semplice banale non è mai stata comunicata perlomeno io non l'ho mai sentita detta esattamente in questo modo in televisione ti parlo sempre come un estremismo religioso appunto ok va bene allora noi siamo solo mafiosi siamo italiani è vero è lo stesso ragionamento quindi arrivano solo o comunque fanno arrivare un po' sempre lì le informazioni che vogliono cioè quindi è anche una semplificazione a parte che sempre la religione e la politica si sono diciamo sono sempre andate a braccetto anche nella nostra cultura occidentale sì ma non sono un tutt'uno ripeto il Presidente della Repubblica non è il pato noi abbiamo insomma i patti ladrianensi che influiscono ancora sulla società di oggi quindi c'è sempre stato però meno meno chiaro cioè non è perché si è sempre scissolo la religione quella che segue una cosa la politica giustamente che dicevi tu e un'altra sono due ma a volte si contrappongono a volte vanno a braccetto però è un altro discorso comunque sono sempre lì ovviamente la religione questo è un altro discorso anche su grandi temi la religione ha lo stesso scopo poi della politica quindi quella di indirizzare le persone o far seguire seguire anche per delle cose se diventa psicologia poi in realtà se vogliamo parlare di religione andando anche un po' per il tema ma è interessante ma abbiamo ministri che lasciano rosari e si appellano a cuore immagurato e poi dicono quelli hanno invasione tra l'altro però vabbè vabbè devo andare fuori in terra al tema della religione quello qualsiasi cosa quando diventa ideologia diventa deleteria ma la religione risponde a un'esigenza di dare corpo al concetto di sacro che non può estilpare da nessun essere vivente questo è comune in tutto il mondo il sacro non è liturgico e attenzione il sacro quindi sai se parte anche con gli archetipi l'albero anche su un tramonto quando ti innamori quella sensazione di sacro e ovviamente la religione deve essere quello che poi c'è sviluppato anche in diverse filosofie come era anche il buddismo e adesso però viene considerato religione ma era una filosofia quindi il sacro risponde a cioè le religioni e le filosofie rispondono a quell'esigenza quindi hanno quella utilità e così andrebbe lo lette poi anche lì vengono fraintese io non sono credente attenzione però mi interessa tantissimo l'argomento ovviamente poi vengono fraintese quando diventano ideologia e storicamente l'abbiamo visto mille volte in qualsiasi tipo di situazione e religione tanne poche filosofie che in realtà non hanno mai avuto modo di diventare ideologia e purtroppo sono state massacrate e di cui non gli frega niente a nessuno come i tibetani che adesso loro non hanno mai avuto cioè non erano violenti è arrivato Mazzettundi vabbè veniamoli è ok tra l'altro sapete anche la situazione del Panken Lama così vi facciamo un po' di informazione che è stato rapito da giovane il Panken Lama è l'altro Lama che troverà il Dalai Lama l'incarnazione del Dalai Lama quando morirà il Dalai Lama cioè il giovane che viene poi in un certo senso un reggente no in attesa di trovare la reincarnazione in cui si incarna esatto esatto il Lama fu rapito a tre anni non si sa che fine abbia fatto e sostituito con in teoria quindi il prossimo Panken Lama in teoria dovrebbe essere cinese non tibetano per in Mongolia parlavo con la mia guida che che loro ovviamente prima erano seguivano lo sciamanesimo quindi il concetto di sacro animistico è tutto vabbè tutti e poi praticamente ha detto che detto in maniera molto ai cinesi proprio per rendere più Keto questo popolo hanno introdotto invece il buddismo per curioso vedi perché il buddismo l'hanno voluto proprio debellare dalla loro regione ma adesso sono introdotti dopo hanno tolto comunque il discorso hanno ridotto il minimo lo sciamanesimo hanno introdotto il buddismo poi hanno deciso anche di anche lì ci sono state delle stragi atroci di di buddhisti di monaci ma appoggiati da questo governo comunque sì sì ma vedi è solito il discorso quando poi le cose si tramutano in ideologia politica in questo caso tornando a reportage Steve McCurry è andato spesso a raccontare poi tutte queste questi conflitti religiosi anche in India in Tibet in Pakistan eh sì quindi la fotografia scusa la religione e poi i conflitti sono sempre politici certo certo sì sono religiosi viene viene strumentalizzata ma non è colpa della religione in sé come molti invece pensano che sia quella risponde a un'esigenza di dare colpo al sacro e non c'è niente infatti non troverai nessuno che veramente ha letto il Corano veramente ha letto la Bibbia veramente ha letto la Bibbia degli ebrei che in realtà ti parla di violenza dobbiamo uccidere tutti no c'è capito quando poi viene strumentalizzata poi ovviamente da per quel che riguarda l'Islam dai vari estremismi viene proprio cambiata dove proprio Dio dice prendete le armi e combattete oh calma cioè prendete Kajnikov eh ok va bene quello purtroppo pericoloso torniamo lì sull'utilizzo come l'intelligenza attenzione perché può essere può essere un veicolo pericoloso torniamo sempre lì dipende chi è che la utilizza è l'utilizzo che ne fa il singolo individuo e quindi una collettività vedi quindi torniamo al punto di partire si è completato perché di per sé non sono pericolose queste cose né l'intelligenza artificiale né tanto meno la religione di per sé ma le persone che strumentalizzano certe situazioni purtroppo lo sono quindi che sia magari il cattivo cliente come dicevamo un editore o che sia appunto il predicatore nella tv americana che chiede soldi alle vecchiette per farci la villa al mare ma in America puoi aprire una chiesa per qualsiasi cosa è nato anche il jedaismo non so se lo sapeva ah dei jedi dei jedi guerra cellaria la chiesa dei jedi e ti giuro nel censimento di Repubblica cieca c'è un 0,1% di appartenente religione ha scritto jedi sapevo che la trovo io la trovo anche proprio interessante o meno di Scientology la forza che solisce tutti certo il concetto affascinante di MidiClorian vabbè quello è stato da Lucas che l'ha usato perché la gente stava impazzendo di tutta questa cosa no perché lo trovo più sensato e ha più senso di Scientology poi vabbè c'è poco almeno se devo parlare di alieni il pasta farianesi come si chiama li mangiano la pasta o lo scodella in testa il pasta fariane vabbè ma quelli per i pirati quindi sono più in Argentina c'era la chiesa di Maradona pure c'è gente che c'è sposata c'è veramente va bene essere aperti a qualsiasi regione ed essere appunto laici quindi libertà di culto ma che cacchio noi esageriamo adesso sì che non fai male agli altri sì sì esatto la libertà finisce quando invade la libertà di qualcun altro esatto comunque corpo la tua esigenza di sacro va comunque bene capito non è quello fin quando effettivamente la mia regione Bruce Springsteen non do fastidio a nessuno io a seconda del periodo è stato Charlie Cepi per un bel periodo forse Neil Gaiman credo che Neil Gaiman parla di queste cose che è molto interessante perché parla di entità non so se conoscete Neil Gaiman Sandman Coraline sì certo Stardust e lui è interessante lui vedi tutte queste entità anche dei però poi la morale è una tutte queste entità dei dei esistono soltanto perché la collettività pensarolo è la collettività di corpo vedi che è lo stesso concetto è l'uso che ne fa la collettività stessa di questi mi azaghi anche mi azaghi ha insomma raccontato tanto nei suoi film la rapporto tra l'uomo e la natura è come questo va a creare una specie di spiritualismo no? eh sì che poi è molto interessante effettivamente si dà corpo a ciò che anche personalmente poi con la fotografia o con un'arte a come tu percepisci la tua realtà è interessante come concetto poi c'è un libro in cui American Gods è metato in America e tu vedi che c'è cosmogonia di ogni parte del mondo perché l'America è fatta di diverse popolazioni che vengono dall'Europa no? e comunque da ogni parte del mondo e vedi però sono dei che nessuno si ricorda più quindi figure che si ricorda di un odino in America e quindi sono debolucci sono persone come noi no capito normali libero ma non hanno chissà quale aura persone che sbarcano un lunario no? è molto interessante perché nessuno si ricorda più di loro era tutta una trama senza fare spoiler in cui Dio dice ma sai che forse posso risolvere in qualche modo ed è bellissimo nella serie l'hanno fatto c'è un episodio ambientato a Pasqua allora vanno a trovare Easter la dea no? Esther la dea della Pasqua che era europea è pieno di Gesù Cristi di ogni tipo è meraviglioso perché ogni è un riferimento al fatto che ognuno vede no? Gesù Cristo a proprio modo quindi i protestanti oppure di ogni tipo è bellissimo se ne ho mai letto ti consiglio il romanzo A volte ritorno che è esilarante e poi te lo prendo lo scrivo ah no A volte ritorno mi veniva in mente il film sono tornato ma non è ah no 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 che è proprio lui Mussolini vabbè oh ragazzi abbiamo fatto una bella chechieratone due ore abbiamo fatto è molto interessante molto poi come avevo detto è un primo ragionamento poi in modo più tranquillo e rilassato se vi va c'è Dainelli che insieme ad altri fotografi stanno per uscire con un libro proprio di street quindi comunque è sempre questo argomento e allora voleva parlarne trovarci e parlare appunto di questo progetto che è molto interessante ne abbiamo anche accennato no? è documentare se vi andrà probabilmente sarà la sera io ve lo dico so che avete più difficoltà la sera però poi vediamo anche la loro disponibilità ma hanno già detto perché lavorano comunque ovviamente quindi hanno questo rischio se mi va mi piacerebbe avere anche voi proprio per questi se è possibile mi viene a trascinare sì 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 assolutamente grazie grazie a voi adesso rimaniamo un attimo qua che ci salutiamo decentemente però facciamo una cosa ufficiale per youtube grazie di nuovo per questa checchierata e ci vediamo appunto per il libro di Dainelli grazie grazie a te Alessandro ciao Alessio ciao ciao grazie ciao 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 Grazie a tutti